Io quando vado al processo, non c'era ancora la Zaghera, c'erano i suoi uomini, c'era Scintilla, lo sceriffo, insomma me li ricordo in gabbia Incredibile, che venissero a fare questo gesto così Fanno salvia Io non capisco, poi capisco Fatti le sopracciglia Fatti le sopracciglia Tu lo diresti mai? Che fighetti Abbiamo con noi Roberto Saviano Eccomi, grazie Felice di essere tra voi Grande onore per noi averti qui E prima dicevo, ci sono delle persone che stanno facendo un trasloco fuori E pensavo che fossero le persone della scorta Sono sofisticati al giorno d'oggi Ma anche se fosse non ce lo direbbe Come va intanto? Molte cose, sono giorni intensi Ne sono successe diciamo ultimamente Sì Ti faccio una domanda estemporanea Podcast come ne mastichi? Ho fatto un podcast Anzi due Uno Tutti e due per Audible E il maxiprocesso è un meme Maxiprocesso che ha sconfitto la mafia Esatto È diventato un meme Tutti gli adivi di Youtube diventano tutti meme Sì perché si vede che era molto spinto Ti martellano Sì martellava Ed è il racconto appunto del maxiprocesso Che mette in crisi La mafia corleonese E che poi porta le stragi Per cui io volevo dare Insomma soprattutto al pubblico più giovane Il contesto e anche gli audio originali C'è Buscetta e Papi Pocalò È incredibile I confronti tra Buscetta Mamma mia Sono Devo dire Quello in tribunale Credo che per chi faccia questo lavoro Per chi navighi in questo ambiente Buscetta sia il collaboratore di giustizia perfetto Beh perché è più affascinante È in grado di dare una prova semantica Vi faccio un esempio Questa roba è incredibile Per chi insomma poi può rintracciare E free il video E a un certo punto si confrontano Buscetta e Pippo Calò Pippo Calò Buscetta lo ha combinato È l'espressione con cui si dice affiliato Non si dice affiliato Si dice Combinato Combinato Uomo di Buscetta I figli sono cresciuti A casa di Pippo Calò Perché la moglie era molto legata Alla sua prima moglie Bene Quando si siedono uno di fronte all'altro Buscetta sa che Calò gli ha ammazzato i figli Perché mentre i figli stavano scappando Sapendo che erano ormai obiettivo Dei corleonesi Vanno da zio Pippo Che li chiama Perché si curi E lui li ammazza Carino Che cosa succede però Che lui In realtà Nei giorni in cui i figli di Buscetta Scompaiono Il corpo non viene trovato Fa risultare che era a Parigi Ma non era a Parigi Aveva fatto andare un altro Con i documenti Con il biglietto Quindi che succede Che Buscetta si siede E Pippo Calò fa Ah sei venuto a fare lo show E Buscetta dice Ah parli inglese Pippo E Calò fa Ma che solo tu parli inglese Anche se io non mi sono mai mosso da E si ferma Ricordando Che lui ha dichiarato Che si è mosso dalla Sicilia Io non mi sono mai mosso da Nooo E si ferma E Buscetta gli dice Lo so lo so Sei stato solo a Parigi Se voi l'ascoltate Sembra una E si sono detti tutto Si si è incredibile Buscetta riusciva a tenere testa A tutti Gli ha zittiti tutti È un teatro Sanno benissimo le mosse Sono dei politici Che giocano In segreto Ma in pubblico Poi però devi stare attento Ai collaboratori di giustizia Che depistano È lì un casino Secondo me È molto complesso Capire la semantica Delle mafie Capire tutto I messaggi che dicono I comportamenti Cosa volevano Cosa hanno ottenuto È veramente difficile Anche perché Fa ridere di finirla così Ma stiamo parlando Di organizzazioni segrete È una parola Che fa subito Thriller Medioeva Ma sono organizzazioni segrete Quindi Qual è il problema? Non c'è una versione ufficiale Non è che l'organizzazione Può fare un comunicato Smentiamo E quindi chiunque Può dire la sua È tutto un tramandarsi Di leggende metropolitane È tutto un passaparola Beh Allora la domanda Sorge spontanea Secondo te Matteo Messina De Raro In qualche modo Parlerà? No Nel senso che Se dovesse farlo Mi stupirebbe molto Perché Ai suoi livelli Nessuno mai Come dire Ha collaborato Poi tutto può essere Perché non è un uomo Che ha costruito Una dinastia Non ha un figlio maschio Sì Gli attribuiscono Un ragazzino Ma Non ha creato Un figlio Uomo d'onore Sua figlia Non è nell'organizzazione Tra l'altro Lui non si è sposato Guardate che Questo è un dettaglio interessante Perché i corleonesi Ossessionati Dalla monogamia Ossessionati Dal rigore sessuale Rina A confronto con Buscetta Confronto chiesto da lui Anche questo lo trovate online A un certo punto Dice Alla corte Non voglio più fare il confronto con Buscetta Il giudice all'attere Donna Chiede Ma perché l'ha chiesto lei Io non voglio spiegare No Ma perché Perché quest'uomo ha molte mogli Poteva dire Poteva dire Pensate Poteva dire È un assassino Vero Buscetta l'ha confessato Poteva dire Immediaticamente era forte Dicendo Io non mi faccio accusare Da un uomo che ha ucciso persone Immediaticamente Addirittura regge di più È più credibile Invece dice Stato Perché il codice Il codice con cui lui sta parlando Non è alla gente No Tra le sue Esatto Messina Denaro È un uomo che Amato Da Rina Perché conservava Due cose In sé Affari E l'uomo che investe Paleoliche Energia Pulita Questo è Matteo Messina Denaro Sì Nel momento in cui Tutti anche oggi Le organizzazioni investono In pompa di benzina Quindi Aveva da un lato La capacità Un po' progressista Un mafioso progressista Ecologista in quel senso Ecologista Incredibile E poi nel turismo Lui investe nei villaggi turistici Gli sequestrano 1.5 miliardi Solo nel settore turistico In tutto Diciamo Il capitale Identificato Stiamo parlando di circa 4 miliardi La Sicilia Pensate che Quando io appunto Cerco di dare i dati Devo trovare Dei dati condivisi Altrimenti dicono Beh la stai sparando Grossa Allora uso i dati Di Banca Italia Quindi Banca Italia È un dato Che dice Soltanto l'attività Illegale Quindi non Gli investimenti legali Hotel Illegale Faci riciclati Soltanto quello illegale Movimenta 100 milioni Al giorno Capite? Ecco perché poi sei disposto A farti 30 anni di carcere Ecco perché sei disposto A morire Perché la tua vita Cambia anche di segno Di significato Per pochissimi Perché per la maggior parte È una vita di merda Con pochi soldi Quello che ci diceva Gratteri Cioè tutta la manovalanza Tutte le I subalterni In qualche modo Vivono di nulla Nulla Tu entri in un'organizzazione E possono darti Vabbè Diciamo Contrasto onorato Se sei nell'organizzazione Calabrese Diciamo Un moschillino Se sei nella camorra Iniziano a darti 500 euro al mese Probabilmente Arrivi al millino Dopo qualche anno E Che però In un paese Dove non c'è lo Stato È comunque una forma Di sussistenza Purtroppo Hai ragione Di assistenza E aggiungo anche Addirittura dove c'è lo Stato Cioè a un certo punto Quello che succede È che ti danno la sensazione Che tu puoi crescere In un'organizzazione Altrove no Sei anche parte di qualcosa Sei Senti che sei parte di qualcosa E poi ci sono i bonus Per esempio Un bonus omicidio In genere va dagli 8 A 10 milioni A 10 mila A 10 mila di lire Quindi 10 mila euro Oggi 15 mila euro Un omicidio Incredibile Chissà se hanno la tredicesima Sì Hanno la tredicesima Noi abbiamo delle prove Dove per esempio Io segui un'inchiesta Sui Maranesi In Nuvoletta Che a un certo punto Aumentano il panettone In una certa area Di Napoli E non si capisce perché Perché avevano fatica A dare la liquidità Quel mese Che è la tredicesima Perché tu hai uno stipendio In un'organizzazione Hai uno stipendio Hai la garanzia del mutuo Se hai figli disabili Hai l'assistenza È un Stato Dentro lo Stato Io oso addirittura Di un'altra cosa È una parte dello Stato Cioè la parte che la combatte È una parte dello Stato Capito Cioè Ed esiste da prima dello Stato Sì In realtà lo fanno Prima dell'unità italiana Lo conosci Ninko Nanko? Come no Sai che io sono parente diretto Davvero Mia nonna di cognome fa Sumba Ma pensate Come Ninko Nanko Il primo brigante italiano È uno dei briganti Che ha messo Mitologico Quindi veniva considerato Il grande male Però Confesso che Non lo confonderei Con il crimine organizzato I briganti Avevano Altra traccia Erano più individui? Non sono Ma poi resistevano Fuorilegge Veri Fuorilegge veri Cioè non era un'organizzazione Anche quando lo erano Non è che semplicemente Taglieggiavano Lo facevano per interesse proprio Difendevano comunità di contadini So bene che Mentre lo sto dicendo Qualcuno dirà Non è così I briganti sono l'origine del crimine Io non lo considero assolutamente Il crimine è borghese I briganti erano popolari Contadini Invece Quindi il brigantaggio Ha secondo me Un significato diverso Rispetto a Si viveva molto L'antagonismo con la polizia I Savoia Che mi sono considerati invasori E quindi C'è il sud Che cerca in qualche modo Di rivendicare Che l'unità italiana Non gli aveva dato le terre Non gli aveva dato la ricchezza Anzi Le aveva immiseriti Quindi Il brigante crocco Il mitico rinconanco Erano tutte Tutte figure Anche che I piemontesi Come dire Erano terrorizzati Dei gangster Un po' Sì Eh sì Il nostro western Il crimine è Hai detto È Borghese È borghese Infatti sono I boss Ci diceva anche I crateri Sono degli uomini Qualcuno Qualcuno diceva pure Che quello che distingue La mafia Dal resto Della criminalità Organizzata È l'abitudine A un rapporto Privilegiato Con lo stato Certamente In genere Per esempio Quando sono Nelle scuole Cerco di dare Una lettura Semplificando Di questo tipo Il gangster Lavora per i soldi Il mafioso Per il potere I soldi Sono solo Una declinazione Del potere E del resto Se tu volessi Soltanto il grano Una volta che fai Un'operazione Con la coca Per esempio Ti stai a posto Cioè No? E poi magari Non è solo soldi Vabbè Come diceva Un vecchio saggio Come andare Meglio che scopare Quindi Chi era? Come andare Meglio che scopare Un signore Un signore Che si affaceva Dai balconi Ah ok Bello Credo che non si privasse Anche dell'altra cosa Sì Però era proprio Un fan Dei balconi Io Rispetto Alla cattura Recente Di Matteo Messina Denaro Ho Una mia opinione Che è Paracrucianiana Voglio sapere Il tuo pensiero Cioè nel senso In questo momento Grande giubilo Da parte dello Stato Perché Abbiamo catturato Matteo Messina Denaro Ma a mio modesto parere Per me Non è altro Che il palesarsi Di una Gigantesca sconfitta Perché l'abbiamo catturato Ormai vecchio Malato Malato E probabilmente Inutile In termini Di organizzazione Cioè Non riesco a vederla Come una vittoria Riesco quasi Anzi A percepirla Come Una Una volontà Dello stesso boss In qualche modo Sai Da un lato È difficile dare una risposta Lo sapremo chissà Tra quanto tempo Avremo elementi Chissà tra quanto tempo Però c'è da dire che Io non credo Si sia consegnato Perché Voleva E sono certo Abbastanza certo Di questo Guardando i suoi comportamenti Voleva fare come suo padre Suo padre Il padre di Uzzucic Il padre di Matteo Messina Denaro Fu latitante Per otto anni Quando morì Si fece lasciare Su un muretto Vestito da morto Lasciando intendere Adesso mi consegno Cadavere Ah È un segno di forza Per la sua famiglia Beh certo E probabilmente Probabilmente E De Sia Denaro Nell'Atene Nell'Orizzonte Aveva un'idea del genere Ma Tutti i potenti I tiranni I politici Gli imprenditori Ma persino Avviene così Anche nei potentati Sportivi Cioè Tutti hanno Una vita Quindi un momento Di apice Una fase di crescita Un momento di caduta Certo L'abbiamo preso Come binnu In un momento di caduta In cui L'organizzazione Ah perché qui c'è Tutto un dibattito No poi Tra esperti Ma era il capo Di Cosa Nostra No non era Il capo di Cosa Nostra La lettura La lettura è Secondo me Che lui Certamente È al vertice Di Cosa Nostra Certamente Non voleva Essere il sovrano Perché Cosa Nostra È verticistica Cioè Rispetto a Camorra e Andrangheta Che sono federali Non hanno un re Cosa Nostra È una piramide E quindi è un re E anche questo Si fa molta fatica Magistrate qualcuno Dice No non è così Non è più così Non c'è più la cupola Rina muore re Cioè Rina Che muore qualche anno fa In carcere In realtà È il re di Cosa Nostra Benché non lo sia Più da anni Perché non comunica più Simbolicamente Prima di Settimo Mineo Per esempio Che era Capo di Cosa Nostra Mentre Messina Denaro Era fuori Perché Denaro Cercava di avere Un ruolo di influenza Ma non di essere il re Per tenere Più tempo possibile Sugli affari E non rendere conto Al gruppo Un po' il bisignani Della mafia No c'è un po' Faccendiere Lui anche Certamente Perché Poi questo è interessante Negli anni Spero non mi quereli bisignani Non volevo paragonarlo A me mi ha querellato Ma ho vinto Io siccome sono molto affascinato Ogni tanto Vi mando dei messaggini Tramite amici Tipo Raccontami tutti i tuoi segreti Ti sono convinto Che bisignani Un giorno In punto di morte Mi racconterà Tutti i suoi segreti A te A me A Fedez Sono convinto Di questa cosa Non so perché Io ero fu ufficiale Non certo Sicuramente c'ha voglia Di raccontare roba Bisignani Può essere Poi sai Non sai mai Quello che poi Sanno Di sapere Però Certamente Insomma È una roba Cioè Il fatto che Tu puoi fare carriere In un'organizzazione criminale Se hai La sintesi di due cose Capacità negli affari E potenza militare Non puoi essere un cavo Se sei colletto bianco e basta Non puoi essere un cavo Se sei soltanto un macellaio Questa rende l'organizzazione Chi ma è del mondo Questo vale per i cartelli messicani Vale per i cartelli Kosovari Albanesi Vale per i cartelli russi La differenza con l'imprenditore È che tu devi anche su di te Portare diciamo Il carico omicidario Cioè le persone devono sapere Che tu sei in grado di uccidere E hai ucciso Ma come i buoni imprenditori Che hanno fatto tutta la scalata Da sguattero Per sapere bene Che cosa stanno amministrando Quasi tutti i capi Diciamo sono così Va detto che poi C'è tutto un corso sonoro Cioè nel senso che Se sei figlio di un capo Entri privilegiato Entri già Sei battezzato Come Di Lauro Esattamente Come i figli Sei esperto I figli di Di Lauro Di Paolo Di Lauro Commettono dei casini giganteschi Che porteranno poi alla faida Una delle più grandi faide È la storia del crimine Sono completamente inesperti Ma gli danno il potere Perché sono figli del re Ah giusto E cambiano tutto Tra l'altro con un'operazione interessante Perché Cosimino Di Lauro Figlio di Paolo Di Lauro Stiamo parlando A metà degli anni 2000 Cosimino Di Lauro Sarebbe Jenny Esatto Giusto Nella serie Gomorra La serie Gomorra Ispirato Esatto Morto Recentemente Giovanissimo In carcere Quasi si è ammazzato Fumava più sigarette possibile Cercava di bere il meno possibile Di mangiare le cose Più dannose possibile Per velocizzare una situazione E secondo alcune interpretazioni Che stava cedendo E non voleva pentirsi Quindi Per morire martire Morire nel silenzio Nel martirio Decide l'umertà Bene Cosimino Di Lauro Commette Diciamo un golpe Cioè agli affiliati di suo padre Che erano liberi concorrenti In libero stato di camorra Cioè Ognuno gestisce i suoi territori Dovete solo comprare la droga da me Una volta esaurita la mia partita Potete fare quello che volete Lui prende il potere E dice No Basta Siete tutti a stipendio Vi do un mensile E fate quello che dico io E scoppia la rivolta E inizia a far lavorare i giovani E lui dice Giustifica tutto questo Dicendo Non voglio nessuno Sopra i trent'anni Nessuno I vertici devono essere Tutti i ragazzi Voi siete vecchi Si debbono poscarsi Perché pretendono di più Poi gli adulti magari La furbata era Il giovane Pur di ottenere potere È alleato mio Gli altri hanno già potere Non hanno bisogno di Cosimo E quindi da un lato C'è una furbizia Sempre devi vestire Questo è come la politica Devi sempre vestire Ideologicamente Qualcosa di avvincente Quando in realtà Spesso è solo Banale profitto E così Tutta una serie di regole Anche le cose più assurde Per esempio Quando Vieni ammazzato Tua moglie Si può risposare In genere Dopo 5 Barra 8 anni La leggenda Casalese diceva Sì Perché l'anima Di una persona ammazzata Gira Per 5 anni Prima di andare Dall'altra parte E tu non puoi far vedere La moglie Con un'altra persona Quest'anima Che ancora varia In pena È un loro credo È una roba In realtà Questa è una vera e propria Mitologia C'è leggenda In cui non è che ci credevano Ma serviva al clan Per dire Una moglie Sa molti segreti Se uno si sposa subito Gli passa delle informazioni Facciamola stare Lontana Che magari i figli gestiscono Nessun altro Si prende quelle informazioni Tanto è vero Che Bardellino Personaggio assurdo Non so se lo conosci Ma ti piacerebbe Il grande capo dei Casalesi Di cui non è mai stato trovato Il corpo Amico di Buscetto Ucciso in Brasile Ma dicono ucciso in Brasile Scompare Da sempre Nel mio paese Tutto Nel mio territorio Sempre si diceva Don Antonio Non è mai morto Don Antonio Non è mai morto Michael Jackson Ma nel caso suo Il corpo non è mai stato trovato E a un certo punto D'improvviso Mi pare Due anni fa Su Wikipedia Uno aggiunge La data di morte Questa roba È inquietante Che data era? Per qualcuno È stato Chissà Cioè nel senso Era morto tipo 85enne E chissà Io Ho molte perplessità Però mi ha sempre colpito Il grande capo Che non uccideva Con le armi Sempre armi bianche Madonna Ma sono degli storyteller Incredibili Cioè se sei uno Poco creativo Fai poca strada Non puoi fare il compitino È il motivo per cui Io sono ossessionato A questa roba Come posso inventare? Pensate Con queste storie Per me Queste storie Sono una mano alla gola Perché so sempre Che appena c'è un momento Di invenzione Come era la serie Chiaramente ispirata Alla realtà Potevi inserire cose di fantasia Ma il metodo Che ho usato anche con Garrone Qual è? Io scrivo tutto ciò che è accaduto Non per forza accaduto a Napoli Nel 98 Nel 2000 No Quello che è accaduto Cioè se tu vedi ammazzare Dove scrivo In un certo modo Non significa per forza Che sia avvenuto in quel momento A Napoli In quella fase Ma per esempio In Montenegro Ma deve essere successo Se no io non ci credo A me stesso non credo Quindi tutto quello che accade Come dicevi Loro sono ossessionati dalla storia Ma Prima gli raccontavo I fratelli Graviano Personaggi assurdi Incredibili A un certo punto Qualche tempo fa Mi arriva Un'ennesima querela Poi ne prendo tantissime Chi si espone Sempre così Ma chi è Chi non è Chi è Chi non è Graviano Quindi Madre natura Sul suo soprannome Perché Vuole che sia sequestrato Solo il coraggio E mi scrive A mano A mano La querela Perché il messaggio È preciso Il messaggio è Sono io a scrivere Che il libro Deve essere Tolto dalle librerie Ora Prima domanda L'assassino Di Falcone Perché era presente Nel gruppo Chiede il sequestro Di un libro Sul Falcone Magia Magia E poi mi dice Non mi chiamo Madre natura Perché do la vita E tolgo la vita Ma perché è un bel culo Chi mai Ciao Darwin Ciao Darwin Ma perché ero Generosissima E quando Gli avvocati Hanno letto Questa cosa Io ho detto Ragazzi Fermi tutti Bisogna sempre Mettersi dal punto di vista Di chi sta raccontando Questa cosa Bene Nella sua testa Questa cosa è vera Perché è stato Un boss Per esempio Attentissimo Al welfare Nel suo quartiere Ma se c'erano problemi Mudo Prende e dai soldi Ma Qui c'è la truffa Loro non vogliono mai Che i loro quartieri Io mi sono sempre chiesto Ma perché Casalesi Cosa non sta Non hanno fatto diventare Questi quartieri pieni di I migliori campi di basket Avevano i soldi Per fare I migliori campi Valutare Una bella scuola Qualificare la zona Perché se tu sviluppi Non hanno più bisogno di te Ti danno i soldi Ma devi sempre Dipendere da loro Tieni affamato Esatto Tu hai un bambino Per esempio in difficoltà Le organizzazioni spesso Quando tu hai un figlio disabile Ti aiutano Ma quanto ti aiutano Quel poco per cui Devi sempre dipendere da me Il campetto Il campetto Rifacciamo i canestri Io a volte mi dicevo Avete miliardi di euro Cosa vi costa dare lo 0,2% A quel quartiere E no Poi nessuno ti fa un omicidio Per 5.000 euro Nessuno poi decide Di avere a che fare con te E fare le loro operazioni Quindi sono costetti poi Ad andare via E perdere il loro potere E il motivo per cui Il denaro è lì Tu dici ma come Con tutti questi soldi Perché non sei andato In Nuova Zelanda Perché se tu vai via Devi mettere qualcuno A fare il vicere E diventare Mi metterò il reggente Ma pensa te Io una cosa Che non so Come fai A conciliarla Nel senso Io vivo Una dicotomia Nel senso Tra Il ripudiare Ciò che è Il sistema mafia E tutte le associazioni Criminali E però Dall'altra parte Ne subisco anche Il fascino Tu hai la stessa cosa Cioè come Sì Nel senso che Anzi grazie per questa domanda Perché io credo Che ci sia Un assoluto fascino In queste storie E questo fascino È parte del loro potere Cioè loro stessi sanno Loro stessi sono affascinati Non è un caso Che trovate libri Su fatti criminali Letti dai boss Tantissimo E ci dicevi Prima off camera Del fatto che Nella casa Avessero trovato Ma io quando Non so se vi è capitato Devo dire A un certo punto Arresto nel ciapo Quando trovano Un libro che ho scritto Si chiama 000 Sul letto del ciapo Perché lui si voleva leggere Voleva leggere La sua storia scritta Ma non voleva minacciarmi In quel caso Ma non ne fregava niente Gli importava Fammi capire Cosa è successo Prima di me Perché spesso Non lo sanno Il fascino c'è E mi interessa Smontarlo In alcuni casi Cioè Mi interessa capire Come spesso è teatro Menzogna Onore Non tocchiamo le donne Falsissimo Facciamo tutto Per i poveri Falsissimo Pensate che le organizzazioni Questo libro lo scrivo Hanno Soprattutto per esempio Cosa Nostra Anvivano addirittura Un libro fondativo Che si chiama Non so se l'avete mai sentito I Beati Paoli Un libro Scritto Luigi Natoli Una sorta di Diumà italiano Che scrive questo librone Siamo i Beati Paoli Dove racconta Di una setta Incappucciata Che si riunisce Per vendicare Le persone senza giustizia La cameriera Stuprata Dal suo padrone Una persona Uccisa dai fratelli Colmare l'assenza Della giustizia E loro si identificavano E pensate che Uno dei più grandi killer Della storia L'avete sentito Totuccio Contorno Incapace di parlare italiano Al maxiprocesso Nel mio podcast L'ho messo C'è il traduttore Siciliano-italiano Mentre il pentito Si di Singapore Che parla tutto Così Non ha traduttore L'italiano Per dire no? Bene Contorno Soldato perfetto Nel senso Una macchina da guerra Vera Un uomo Che non dormiva Nel letto Nel momento in cui Nell'obiettivo Perché ha paura Di prendere troppo sonno Quindi non capire Se qualcuno Gli sta entrando in casa Totuccio Contorno Che gira Per Palermo Con un bambino Alla mano Non suo figlio Preso da amici di famiglia Per non farsi sparare Esatto Perché un uomo Non può sparare Davanti a un bambino Quindi gira Con lo scudo E un giorno Mentre è per Palermo Ha questo bambino Accanto I urlani si dicono Bisogna buttare giù Contorno Se c'è il bambino Sparato Sparato uguale Lui vede Giuro questo È quello che racconta Una persona Che ha il ventre Sulla ringhiera Del balcone E pensa Ma io se mi affaccio Non mi affaccio così Cazzo Quello è un palo In chioda Apri la porta E si mette in posizione Ed era vero Di lì a un attimo C'era il gruppo Cazzo che intuito Vede uno così E dice Ma che Io mi affaccio così Bene Tutto il suo contorno Si presenta e dice Il mio soprannome Coriolano Della floresta Che è il protagonista Dei Beati Paoli Una persona che non parlava italiano Questo lo dico per dire Non bisogna farsi fregare Per cui Ah belve ignoranti Questo è un commento da fighetto Non è così Il fatto di non avere Per esempio Un buon eloquio Non significa che non sia intelligente Capace E anche con una certa cultura Certo Quindi invece tutti vediamo Ah beh ma no Sono ignoranti Questi non possono organizzare niente Col cavolo Sanno esattamente a chi affidare i soldi Conoscono i codici I sacrifici Oppure al contrario Il boss che sceglie il vizio E per esempio Una roba incredibile Quando ci sono i processi interni All'andrangheta Capo zona Troppe fidanzate Non è affidabile Oppure Si veste troppo visibile Addirittura c'era un caso Non dimenticherò mai Di un affiliato Che guidava col gomito Così fuori dalla macchina Troppo Spaccone nell'occhio Devi essere disciplinatissimo Eh beh certo Ecco perché Quando parlavo di fascino Cioè Da un lato io sono incuriosito Per capire i meccanismi Che sovraintendono Gli affari E poi Gli affari Dove non conta la legge Ma conta la regola Il mafioso segue le regole Il fesso Nel loro sentire Segue le leggi Questo è fondamentale Cioè L'uomo d'onore Segue le regole L'affiliato Segue le regole E le regole Loro le considerano Più vere Cioè È il fesso Che creda la legge E le leggi Ti prendono per il culo L'uomo d'onore Ti entrano in casa E fanno polizia Sono contenti Sono più tranquilli Così non mi tagliano la testa Non vanno a impiccare Mio figlio Dall'altra parte E la loro risposta Quindi io lo volevo far vedere Lo volevo far vedere E lo volevo far vedere Con l'obiettivo Di permettere allo spettatore Di mettersi dalla parte del male E sentire che quel male Non è una roba da mostri È la sua vita Perché quelle logiche Vincere Guadagnare Affermarsi Non fidarsi di nessuno È nella vita di tutti noi Ecco perché piacciono i film crime Sì certo lo spara spara L'azione va bene Ma c'è il fatto Che tu vedi la tua vita In maniera più autentica Non ci sono le mediazioni morali Ideologiche Religiose Quello che cosa conta Amico Nemico Soldi Potere Fidarsi non fidarsi Chi si fida è fottuto Tutte queste dinamiche Noi le vediamo rappresentate In maniera anche mitologica E non c'è Questa è una cosa Che per esempio Ripeto sempre Non c'è una sola persona Che ha preso un'arma Per chi ha visto Tony Montana Mentre i criminali Che hanno già scelto Di prendere un'arma Quando vedono Tony Montana Scarface Cercano di imitarlo Per poter essere riconosciuti Capi Per cui A Casal di Principe Carmine Valterino Schiavone Fratello di San Francesco Sandro Schiavone Va dal geometra E dice Voglio la casa di Tony Montana E loro gli fanno il baldacchino Io sono entrato E quello che quando l'hanno arrestato Gli hanno detto Ha detto Lo Stato vinci sempre Era Valterino C'aveva la casa bunker Che si apriva in due Era un casalese Era un casalese Ah vedi Credo suo fratello Suo fratello Ciccio Perché Cosa succede Che con Valterino Questa casa Con cui io sono entrato Sono fisicamente entrato Nel senso È tutta bruciata Perché quando Gli sequestri Gli confischi i beni Loro dicono O nostra O di nessuno Quindi te la bruciano Io ho visto questa scalinata Ho visto la piscinetta Con il leone È uguale La scena quando Gli sparano The world is yours Ed è Ed è Tutto fa parte di questa storia E attenzione Appunto Ripeto Ah Poi c'è anche l'altro elemento Dicono sì Però le persone Si sono fatte i capelli Come i ragazzini Come Jenny E io dico Buono in che senso Nel senso che loro Prendono a riferimento Una figura rappresentata Non il camorrista stesso E questo permette In una prima fase Sì che quello è il male Ma è un male rappresentato Quindi significa Che tu inizi a essere A capire come si muove Un certo movimento E l'identificazione Io la cerco Cioè che il fatto Che si stereotipizzano Li rende più riconoscibili Non solo Che io Gli tolgo dallo sguardo Sul crimine E li metto Sulla rappresentazione Del crimine Ah Io ti permetto A te ragazzino Che stai guardando Poi dopo Jenny Spero alcuni di loro Poi vuoi capire Che fine fa Jenny Certo Poi vuoi capire Magari Leggi anche una cosa Guardi un'altra serie Mentre invece Se tu hai come mito Il boss di quartiere Il boss di quartiere Ti fa vedere Solo quello che vuole lui E questa cosa È importante Perché altrimenti È una cosa appunto Che anche io Questa è divertente Se fosse così facile Io potrei far vedere Come succede Don Matteo Tutti i giorni Avresti L'educazione al bene Sì no Ma è una cagata No no Sono d'accordo Però Posso farti una domanda Non credi che Gomorra Abbia modificato La tipologia Delle associazioni Ti faccio un esempio Emanuele Sibillo Sì Emanuele Sibillo Non solo Non è condizionato Spesso Ma ne prende Gli stilemi Per essere Più velocemente riconosciuto Per essere più iconico Perché è un linguaggio Condiviso Da tutti Esatto Con la villa Questa era proprio la foto Di Mario Spada Credo È uguale L'entrata così Che c'era Incredibile Adesso poi Gli hanno tolto tutti I pomelli Le ringhiere Ma era uguale Proprio uguale Incredibile E quindi cosa succede Per esempio Il padrino Il padrino Che non solo Gli hanno trovato Adesso il quadro In una delle case Di Messina Denaro Ma Giuffre Racconta Che Binnu Provenzano E lui Vanno al cinema A vedere il padrino Perché vogliono Vederlo Che gli piace Il padrino Visto da tutti I mafiosi del mondo Filippini Russi Gli brasiliani Mario Puzzo Chiama quel libro Di origine della campana Tra l'altro Mario Puzzo Scrittore pazzesco Che fa quel libro Perché era mangiato Dai libidi di gioco E quindi gli dicono Devi fare finalmente Un libro che venda E lui dice Secondo me Queste storie Funzionano Bene Chiama Godfather Nei territori di mafia Il ruolo di Godfather Cioè di padrino Di battesimo O padrino di cresima È fondamentale Anche nell'affiliazione Certo Ma non si chiama padrino Cioè Se tu sei il padrino di Le persone ti chiameranno Compare Cumbà 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 Che suona malissimo Quando le mafia Vede Godfather Toglie Cumbà E il reintroduce padrino Ma che figo Ma che figo Vabbè ma è giusto Rebranding Dicevo anche come Gomorra Ha dato vita O ha plasmato Un po' Sibillo In qualche Dicevi quello Sì Gli ha resi anche più sgamabili Perché poi Sibillo Si faceva le foto su Instagram Si faceva l'era Poi l'hanno ucciso Però Comunque li rende Quelli più giovani Li rende più sgamabili Perché cercano di farsi notare In qualche modo E questo è anche importante Perché Me lo chiedono spesso Perché a volte addirittura Nelle conferenze di polizia Anche i tedeschi Mi chiedono Ma perché Un'organizzazione segreta Poi si fanno i selfie Addirittura nel caso di Sibillo Questo l'ho raccontato Il romanzo La paranza Questi a un certo punto Si mettono Il nome in codice Cioè per esempio C'è scritto Valerio Esposito ES17 Tra parentesi Cioè appartengo Alla paranza Nicola Amore Parentesi ES17 Emanuele Sibillo Emanuele Sibillo 17 Che è il nome Diciamo Il numero iconico Di Sibillo 17esima lettera Quanti anni aveva? Lui viene Lui quando fa 18 anni Dice Festeggiatemi tanto Perché mi ammazzano A breve Due anni dopo Lo fanno fuori A 18 anni era un boss Si E la cosa incredibile Che quando tu conosci Questi personaggi Noi vai a fondo Nelle loro storie Come Sibillo Felice Maniero Ti rendi conto Che avevano Delle potenzialità Incredibili Per essere Dei grandi imprenditori Cioè se io penso A Sibillo Aveva scritto Degli articoli Giornalistici Anche belli Mi ricordo Mentre Felice Maniero E a tutti gli effetti Un grande imprenditore Cioè ha gestito Un patrimonio Da grande imprenditore E quindi tu dici Se solo avessero La possibilità Di stare di là E questo funziona Anche sui social Perché loro sono sui social? Perché oggi Devi essere Nell'ascesa Devi essere riconoscibile In passato Bastava Per esempio Ti compri Una grande macchinone Ti fai vedere Che stai crescendo Tutti i grandi capi Prima di sparire Hanno avuto Una fase di visibilità Maurizio Prestieri Che intervista Non so se l'hai vista Quella ti piacerebbe? Certo bellissimo Su un lancio Su un mio canale Ho caricato L'intervista con Maurizio Prestieri Braccio destro Di Paolo Di Lauro E Osic Chiamato anche lui Osic Come Massile De Naro Prestieri dice Io ho sempre voluto essere Mai VIP Perché se sei molto riconoscibile È il problema Dei capi mafiosi Che hanno fatto le stragi La polizia Ti vuole arrestare Emilia Parlano di te Lui dice Io volevo essere VIP Local Cioè nel mio quartiere Manna Saperi Fuori no Certo Oggi anche per questo Hai bisogno di social Quindi tu preferisci rischiare Ma Devi esporti Perché le persone Che tu devi intimidire Con cui devi fare affa Devono sapere Che tu sei lì Sei bello Sei figo Campagne elettorali Piccole campagne Propaganda E quindi usi social E dopodiché la polizia Ha proprio ormai un dipartimento Che studia i riposti dei figli Di A volte hanno arrestato Dei latitanti Che si erano fatti Dei selfie Tipo nei musei E da un dettaglio Hanno capito dove si trovava E li hanno beccati Ma per lui è più importante Far capire Che si sta muovendo Che sta in un'altra città Che rischiare l'arresto C'è quella coppia famosa Di Napoletani Uno fa il cantante neomelodico E lei è Tonia e Tina Tonia e Tina Sono questa coppia Lei è l'ex moglie Di Gaetano Marino Di Gaetano Marino Uno degli uomini decisionisti Un tizio che gli esplosa Una bomba in mano Ed è rimasto senza mai Ma sei super esperto E vive su YouTube Vivo su YouTube Ma non sapevo che era Gli si sono staccate le mani Giusto? Sì E loro sono diventati Una coppia social Hanno fatto addirittura Il matrimonio In diretta Su Domenica Live Della D'Urso No Capito? Gaetano Marino Detto Moncherino Fratello di Gennaro Marino Mecchei Che è una delle figure Che ci è servita Per Salvatore Conte In Gomorra Non solo lui Ma anche lui Perché è stato di Spagna Esatto Gli spagnoli Loro sono chiamati di Spagnoli Perché spostano Loro a fare a Barcellona In Catalogna E quando va a mettere Una bomba Fuori casa di Antonio Di Ruocco Detto Capacecci Apparentemente Una bombola di gas Con accanto Una bomba Polveripidica Si innesca prima C'è un botto incredibile Sono tutti convinti Sia morto In mille pezzi Invece È stato lanciato In un cespuglio La fiammata Gli ha cauterizzato Le ferite Si è aperto la pancia E aveva sempre Queste mani di legno Infatti c'era sempre Qualcuno con lui Perché non poteva Muovere nulla E la figlia Che è una cantante Sta by in Rai La giornalista Dice Dov'è il papà? E per un attimo La telecamera Indugia Evitando i moncherini Su Gaetano Marino Che in prima fila Questa ovviamente La figlia Stava solo cantando Nulla stava succedendo Ma tributa Cioè si poteva fermare lì La storia La bambina Ha cantato Una canzone per il papà Già questo è interessante Il papà è un capo camorra E invece lo inquadrano Madonna Lo inquadrano Lo inquadrano E l'omaggiano Ma per chi è questa canzone? Beh è interessantissimo Nella tv di stato L'uso della televisione Che hanno fatto Cioè ricordo Cuffaro Da Costanzo Che cercava di buttare merda Su Falcone e Borsellino E loro ridono sotto i baffi Pubblicamente Cioè che Fanno proprio il gioco Tra di loro Usando poi media comuni Sì a volte A volte Per esempio Sono Come dire Convinti Che Interveni È il motivo per cui Cercono di uccidere Costanzo Sono convinti Che una posizione Diciamo Troppo permissivista Insomma permissiva Verso Il mondo mediatico Indebolisca il clan Cioè Rina Si convince Che Costanzo Attaccando Invitando Falcone I rivali suoi Utilizzano questa cosa Per dire Non vale niente E nella mia storia Io Su di me Sono convinto Che i casali Si sono molto arrabbiati Perché Se a questo Gli facciamo dire Qualsiasi cosa Ma i nostri nemici Possono dire Qualsiasi cosa E farci qualsiasi cosa Certo Peppe Diana Che viene ammazzato Io ho 16 anni Il prete di Casal dei Principe Era un ragazzone Da 30 anni Quando gli sparano in faccia Lo fanno Perché Di pensano Ma se Gli permettiamo Di dire queste cose E se noi Lo colpiamo I gruppi Capiranno Che noi Ci facciamo rispettare Quindi Ti utilizzano Come un mezzo Sei un ufficio stampa Cioè Ti colpiscono Perché quel messaggio Arrivi Ma non è che in sé Loro te Ti temono Non ce l'hanno con te Ti usano Ti sentimentalizzano Sì Non so se hai visto Recentemente Questa trasmissione Di Giletti Con questo pentito Cosa ne pensi Allora facciamo un piccolo Ressuntino C'è questa trasmissione Di Giletti Dove c'è un pentito Che era una sorta Mini sindona Cioè uno che gestiva Le finanze Uno che gestiva Le finanze Dei Graviano Piemonte Gelatario piemontese Qualche mese fa Qualche settimana fa Qualche settimana prima Che arrestano Matteo Messino Adenaro Questo dice Lo stanno per arrestare E Ovviamente È il regalino Per questo governo Bravissimo Dice È il regalo Per questo governo Cioè tu cosa ne pensi Perché l'attendibilità Di questo test Non è Proprio la migliore Sì È difficile Allora sicuramente Lui È arrivata all'orecchio La cosa Che De Naro Fosse malato E probabilmente Ci ha fatto lui Una riflessione Cioè Ci ha fatto una riflessione Sua Cioè una persona malata Stanno arrivando Le informazioni Probabilmente Chi se lo vende Ecco Io più che I meccanismi di trattativa Che a oggi Noi non abbiamo Vere prove Su questo Ci sono logiche Di dialettica Cioè di Parti che si parlano E lui Lì lascia Insinuare qualcosa Di cui si è parlato poco Ma secondo me Lui lascia insinuare Chi se l'è venduto Verrà ripagato Quindi la questione Ergastolo stativo Il messaggio In realtà Non è L'ergastolo stativo Non può essere Messo in Come dire In trattativa Troppo Un tema Troppo grande Ma cosa Se per esempio Chi si è venduto Infatti lui dice Proprio qualcuno Potrebbe essere liberato In sordina In sordina In sordina Significa Magari di improvviso Mica ora Tra tre anni Arriva la grazia Da mattarella Ancora più invisibile Cioè tu hai Una diagnosi Che hai Che ne so Un inizio di leucemia Chiaro Vai in ospedale Inizia ad andare in ospedale Quindi i media Non hanno fastidio E dall'ospedale Casa Per esempio Le persone Che hanno partecipato A quest'arresto Non sappiamo Chi sono Vedremo Ma potrebbero Lui sta insinuando questo Ora non so Se lo sa O lo immagina Perché gli è arrivato All'orecchio Gli è arrivato All'orecchio Una cosa del genere Mi ricordo Per esempio Molti anni fa Un pentito Carmine Schiavone Adesso è morto Mi incontra È morto A un certo punto Mi incontra Ma che parliate Di familiari Ma ti ricordi Lui È morto Carmine Il Carmine Il grande carminone Carmine Schiavone Mi racconta È uno dei pentiti Diciamo che Mi racconta Insomma Mi dovevano fare male E quando vengo convocato I carabinieri Mi Microfonano Cioè Io ho Il microfono Sotto la Sotto la La camicia Terrorizzato Perché 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 Questa Macchinetta Che mi registravo Con una cassettina piccola Fa rumore No Quando si Finisce Fa Tac Quindi io andavo Continuamente in bagno Che tecnologia Avanzatissima C'era il registratorino Quello D'anni 90 Era più di dieci anni fa C'era già digitale Esisteva già Un manovale Non farti rischiare Lo stato arriva sempre tardi Anche sulle cose Io andavo in bagno Per vedere Sta cassetta No E Detto ciò Lui sapeva Benissimo Perché a un certo punto Io questo audio L'ho utilizzato E l'ho visto online In un documentario Che fece una televisione americana Non so se la ricordate Current TV Forse eravate troppo piccoli C'era una televisione americana Nata in Italia Si chiamava Current TV E io Feci questo doc Che si chiamava Racconta Saviano E metto gli audio Quello che ho caricato Sempre sul mio canale Metto gli audio Dell'incontro Con Schiavone Il quale Quando lui vede Che sta roba Non gli rifrega niente Perché lui Le cose mi voleva dire Voleva che fossero pubbliche Quindi io sono andato segreto Ma se gli avessi detto Posso registrare Potevi Anche perché a lui Gli avevano secretato Tutti gli interrogatori Per la terra dei fuochi E poi gli hanno Hanno tolto la secretazione Non so come si dica Quando è esploso il merdone Ma per anni I suoi verbali Sono stati secretati Per non far sapere Che c'era una bolla Di merda radioattiva In quella zona Quindi il rischio Di terrorizzare le persone Perché lui raccontavano Degli intombamenti E lui a un certo punto Mi dice Il motivo per cui Vogliono farti del male O ti vogliono colpire E anche là Lui diceva È un fatto simbolico Cioè Lui attribuiva la cosa Al fatto che Dice Ah ma se tu fossi stato di Milano È diverso Il significato È che tu sei di quella terra E racconti E dici quelle cose È troppo grave E io gli faccio una domanda Quando lo riascolto Mi sento proprio ingenuo Un bimbetto Perché gli dico Scusi Poi gli devi dare del voi E non del lei Che è un codice Ah però Il lei è distante Il lei non è rispetto Il voi è Un'attestazione Un discorso che faceva Anche Mussolini Lui vieta proprio il lei A un certo punto Considera borghese Quindi dico ma Mettiamo che io tra Vent'anni Perché sono un problema E lui ti dice questa cosa terribile Dici ma no Non ci si può mai dimenticare Perché Nel momento in cui tu assurgi a simbolo Tu sei un capitale spendibile Fine Posso utilizzare Perché sei Che tipo di una roba Quindi Casomai Il problema mio è che Questa cosa Quando io ci penso E vabbè Innanzitutto mi do la colpa Nel senso che io non sono stato capace Di fare l'unica cosa Che mi avrebbe restituito la vita Cioè sparire Il fatto che io continuo a lavorare Sono io stesso Che mi ci metto Mi ci rimetto in mezzo Vai in Norvegia Cinque anni Senza una parola Sostanzialmente si abbassa Certo Rischi Beh nel tempo sì Certo rischio Se vado a Casale A San Cipriano Cosa che oggi Già è un territorio molto diverso Quindi non puoi sapere Ma invece se stai così Appunto Chiaro che graviamo Fa rumore Sì sì Poi c'è un'altra questione La questione Che vivi Cioè Non sono morto Di per sé questa È quasi la prova Che sei un cazzaro Ma come Non ti dovevano ammazzare Io ho 26 anni Quando mi dovevano ammazzare 26 anni Sono finito sottoscorti Adesso ne ho 43 Ogni tanto L'utente medio di Twitter Con la bandierina Dell'Italia Nel nickname Dice ma come Questo qua è un cazzaro Ma infatti Posso farti una domanda Perché Io ho seguito tanto Le tue vicende Leggo Mi informo E Sei forse La persona Dopo di me Più odiata In Italia Cioè c'è un odio Proprio viscerale C'è una sorta di Invidia Di Perché dobbiamo mitizzarlo Perché è un'icona Cioè la domanda Che ti voglio fare è Dopo tutti questi anni Dove immagino sia difficile Fare tante cose Mettere su famiglia Io oggi pensavo Una domanda da farti È Per esempio Cioè pensare di fare un figlio Nella condizione in cui sei tu Devi affrontare Dei ragionamenti E delle dinamiche Che nessun essere umano Sulla terra Deve fare No Ecco la domanda Che voglio farti è questo Ma alla fine Ne valeva la pena Mi piacerebbe tanto Poter rispondere Di sì So che dovrei farlo Ma No Secondo me no Cioè dal mio Guardando da fuori So che è una risposta Un po' Un po' debole Però è no Veramente no Non ne valeva la pena Perché A un certo punto Tu hai un odio Certo Hai anche Una grande solidarietà Un grande amore Però hai l'odio Di un certo parte politica Hai un odio Anche Anche di una parte politica A te vicina Ma che per esempio Malvede Mal sopporta Che sei esposto Cioè che in questo momento Sono qui Sei esposto E non gli fai Da Da veicolo E non gli fai pubblicità Ma gli sei utile Non gli sei utile Se gli sei utile Io mi ricordo Col DDL Zanna Ai tempi Io avevo tutti i politici Che ancora oggi A me mi scrivono Mi aiuti Per la campagna elettorale Mi aiuti Per fare questo Ma che cazzo vuoi Cioè Nel momento Di fare le Va bene Sulle tue cose Fallo anche Però nel momento In cui tu difendi Una parte politica E un messaggio politico Hai una parte politica Che ti difende Nel momento in cui Esprimi le tue idee Basta Senza supportare nessun Banalmente Se non fai Non sbagli Cioè Vabbè Però l'odio Guarda Questo è interessante Perché innanzitutto È proprio Un inferno Proprio un inferno Innanzitutto Sei continuamente monitorato Quindi qualunque cosa tu faccia È sempre giudicato Violentemente E È un odio Che ho cercato di valutare E c'ha degli elementi interessanti Innanzitutto Primo elemento Senso di colpa Cioè Se è vero quello che dici Cazzo Io mi sento un po' Una merda Che non prendo posizione Non conosco queste cose Quindi mi fa sentire In difficoltà E perché? Per fare soldi? Per guadagnare? Questa cosa poi è incredibile No? Ad esempio Quando io sono stato a Sanremo Quando è l'anno scorso E ovviamente Io non ho preso Cacce Cacce Ma neanche Io avevo pensato Di poterlo dare A Medici senza frontiere Perché spesso Se ci pensate È paradossale Perché tu hai lavorato Hai fatto fare numero Non sei un dipendente pubblico Che tu prenda dei soldi Per fare Non sei un dipendente pubblico Non sei Non sento più Scusatemi No figurati Anche perché Il risultato di uno studio Sono un sacco di tempo Avvocati Perché ti prendono Spesso querele Però Che cosa succede? E questo è il paradosso Ti è concesso Questo non è in Italia Nel mondo Ti è concesso Di guadagnare Solo quando Il tuo intervento Non vai Nell'orizzonte Della solidarietà Del bene Dell'empatia Perché altrimenti Viene visto come Ah beh Una scusa Processo alle intenzioni Mentre invece Se tu Se tu a un certo punto Al contrario Se io ti riempio Di me Vaffanculo Mi importa ma Se ti bisogna guadagnare E vadete tutti Così Allora sì Allora Fai bene a guadagnare Quindi cosa Noi consideriamo Il male Oppure la ferocia L'aggressività Autentica Magari anche Non la condivido Ma è autentica Però Non condivido Però cazzo Di pancia Preferisco te Che fai così Di uno Che invece Sotto Sotto Allora Quando io mi sono trovato In una situazione del genere Ho cercato di capire Ma perché E mi sono ricordato Anche Di certi meccanismi Che avvengono Nel sud Italia Cioè quando uccidono Don Peppe Per trent'anni Quasi Iniziano Cioè sono voci Dicono Ma quale camorra Don Peppe Diani È stato ammazzato Perché toccava i ragazzini Don Peppe Diani È stato ammazzato Perché Non fece il funerale Di un affiliato Lo hanno mascheriato Si dice in siciliano Lo hanno riempito di merda Ma Pippo Fava Viene ammazzato Ah ma no Ma quale giornalismo Toccava Giancarlosiani Ma figurati È stato ammazzato Perché era l'amante Della moglie Valentino Giunto Tutte invenzioni Che però Passaparola Cosa servono Servono a dire a te Che ti stai arrabbiando Stai empatizzando Con quel cadavere Stai per scegliere Ma tranquillo Non fare nessuna scelta E legittimare È come quando uno va Deve uscire a ballare Nelle scure Sono sempre queste immagini Immaginate voi Dovete andare a ballare State uscendo E c'è uno per terra Che sta male Due scelte Vi rovino la serata Lo dovete portare in ospedale Oppure dite Ma guarda sto sballato di merda Ma ben ti sta E vai Allora ti sei Quando c'è il cadavere a terra Tu dici Ma non è maffi E stava in mezzo Basta una verità Comodante I tuoi scopi E poi creare il mondo E sulle mafie Guardate Questo è continuo E poi La cosa assurda appunto Che quando mi dicono Ma devo ora di morire Mi hanno così tanto parlato La mia morte Ma così tanto tempo Come dovevo dire Non mi fa paura Ma non perché sia Coraggioso Che mi sembra quasi irreale Cioè ormai Sembra un film Proprio la sento Lomenano In tutti i modi Fuori casa di tua madre No Mentre tu stai facendo Una manifestazione Un sacco di cose E un giorno ricordo Ero in una libreria C'era il cano antibomba Perché spesso Mi accompagnano appunto Per evitare Ordigno Cos'è il genere Di cano antibomba Questo Charlie Pastore belga Bellissimo Fa il giro E si siede Perché il suo padrone Insomma Gli dà due colpetti sul sedere Si riazza E fa Dai Charlie Facciamoci un giro più largo Facciamoci un giro più largo Gira Gira Si siede Il proprietario della libreria Fa una battuta Dice Ma non è che c'è Dell'hashish qua E l'addestratore Gli dice Guardi che il mio cane Non sente le droghe I cani antibomba Sentono solo la polvere da sparo Suo aptritolo Terzo giro Charlie Si siede Che loro fanno così Mentre i cani antibroga Ti segnalano E toccano col naso Tutti i fatti Il cani antibomba Io sono convinto Che siano tutti i fatti Quelli della coca Sì No è un gioco Ma dai ragazzi No no è il premio del gioco Si fanno mesi Si fanno delle No no Il premio Si rendono dipendenti Dalla droga E la cercano Mi piace pensare Che siano dei fatti Liberami Liberami dai Tanto è vero Che quando invecchiano Poverini Non sono più bravi Perché non vogliono più giocare A trovarlo Ma alla fine C'è una dinamica di gioco Senti quella Storia è pazzesca Quindi si fermano E il tizio dice Bisogna evacuare C'è un ordigno Dico ma porca Que può essere Arrivano I tecnici Aprono E dentro il motorino Di questa persona Che era fuori Dalla libreria C'erano dei guanti Pieni di polvere pirica Perché questa persona Lavorava nelle cave Il cane l'aveva sentito C'era della polvere pirica Meno male No però per dire Quanto Quanto questa roba Certo ovvio Tu sei lì Ti dicevo Quella cosa che invece Ti inquieta Più di tutte Non è la morte Ma l'idea di Cazzo ma io viverò sempre così E infatti pensi C'è una fine Io penso Cioè del limite Dei tuoi orizzonti Quello che dicevi Andare in Norvegia Sparire per un po' Io penso una roba così Io penso che prima o poi troverò Ma anche prima o poi Non so Avrò la forza Perché la prima grande forza È Che ne so Rinuncio alla protezione Io per tre volte Ho scritto A figure istituzionali Per dire Non ce la faccio più E la risposta era sempre Ah ma dalle analisi fatte Risulta che devi essere Ancora protetto C'è stato appunto Tutto la storia Il ministro Salvini Vi ricordate Che diceva Che diceva Due cose farò Appena vado al governo Fermare l'immigrazione E togliere la scorta Ma come se fosse un merito La scorta non è un merito Non è che se tu hai la scorta Sei figo Ma è come se fossi Tutti pensano Come un bambino viziato La scorta non è un merito Ma vai È una vita di merda E non ti denota Che sei figo Cioè Come dire Ah c'è la scorta Quindi se non ce l'hai Non vali un cazzo O se ce l'hai vali Perché poi c'è Anche un'altra cosa La scorta Che abbiamo Diciamo noi È una scorta Diciamo antimafia Che è un po' diversa Dalla scorta Diciamo politica Benché siano spesso Gli stessi funzionari Però sono percorsi Anche un po' diversi Anche il modo di vestire Il modo di Quando tu scorti un ministro Si sono vestiti In un certo modo C'è un comportamento In un certo modo Macchine In un certo modo Cioè La scorta Diciamo Antimafia Che non è una specifica Però diciamo Ha una procedura Diversa Ma uno dei motivi Per cui per esempio Io cerco di non andare al mare Non è un fatto di sicurezza Anzi I miei uomini Sono serenissimi Nel portarmi al mare Sono giudizi Con i soldi Gli italiani Vi ha farti il bagno La scorta Ti viene data per vivere Non per me Cazzo Comunque succede Posso raccontarti una cosa Che è insita Secondo me O nell'italiano O nell'essere umano Una volta Io e te Ci siamo incrociati A Venezia E mi ricordo Che stavo aspettando L'ascensore E tutti mi dicevano Aspetta che devi prendere L'ascensore Saviano Ah sì Ed effettivamente È rimasto bloccato Per 20 minuti E io un po' di madonna Glielo ho tirate Non lo sapevo Ti viene nato Volente volente Ah non era l'ascensore Infatti E boh però Dovevano controllarlo Dovevano controllarlo Dovevano controllarlo Fare qualcosa E un paio di madonna Glielo ho tirate Perché ti viene spontaneo Non riesci ad empatizzare Ecco sai cos'è La difficoltà Di riuscire a empatizzare Con una cosa Che nel bene o nel male Sai tu Gratteri E pochi altri Sì Capito Sì è così E poi non solo C'è anche la cosa Che ti L'attico ammanata Non ho nessun attico ammanata L'idea che Per delegittimarti Siccome Se vuoi delegittimarti Devi studiare assai Nel senso Devi avere Un'altra visione E anche se hai Un'altra visione Bene Cioè entreremo in dialettica Allora qual è il modo Cioè Il modo è Attaccarti Inventarsi qualcosa Attaccarti Che poi anche se avessi L'attico ammanata Cioè Quale cazzo sarebbe il problema Se te lo sei comprato Con i soldi che hai guadagnato Cioè Non ci sarebbe niente di male Anzi io fossi bene Un bel attico ammanata Ma vaffanculo Ma quando sono andato Con Lundini A un certo punto Io mi alzo Ci sono le chiavi Con solo scritto Attico E lui dice Ma hai dimenticato E io gli dico No ma è un quartino Non è proprio un attico E senti Che sensazione Tu tra le tante cose fantastiche Che hai fatto E che ti invidio È Intervistare Felice Maniero E Com'è stato Cioè Perché Tra tutti i boss mafiosi È il primo caso È uno dei pochi casi Di boss mafioso al nord È la mala del Brenta Non lo so Volevo capire da te Che esperienza è stata Perché io sarei stato Wow Cioè Avrei avuto proprio Una bulimia di domande Da fargli Beh Beccare una star Beh sì Innanzitutto per me Sempre consapevole Sono assassini Quindi sono È giusto Insomma Per me Tenere molto chiaro Il fatto che Devo Fare emergere Che quello che hanno combinato È gravissimo A fianco a questo Devo far emergere anche Che ha un'intelligenza Che Come dire Da parte mia C'è un giudizio Nel momento in cui faccio l'intervista Che è diverso da quando narro Perché a quel punto Il giudizio deve essere Nel lettore Nello spettatore Ma Innanzitutto ti colpisce una cosa La prima pensazione Qualcuno che ti parla Veneto E per uno che è abituato Come me Ai grandi capi Delle organizzazioni meridionali Fa strano Fa strano È vero È vero Cioè Uno che parla veneto Mafioso Diciamo Collide Perché Con l'immaginario Perché hai a un certo punto Un tono Un modo di parlare Anche di accento Dei grandi capi Una hieraticità Io ho intervistato Per Insider L'anno scorso Che so Giuseppe Misso Che è stato uno dei grandi capi Delle organizzazioni criminali Mi sa che non l'hai visto Questa no Sono su Raiplay La becchi Insider C'è proprio C'è Peppe Misso E così come Maria Monti La prima polizia italiana E si è infiltrata In narcotraffico Lui ha un comportamento Profondamente hieratico Cioè Lui si pone Ma probabilmente Perché così si pone Come una figura Drammatica Un istrione No Che parla Mario Merola Meno Meno scenico Meno scenico Però Diciamo In maniero Innanzitutto Stai parlando Con un brioso Brioso E poi ha anche Una caratteristica Cioè Capisci Che se fosse stato Come dicevi prima Che se fosse stato Rivolto all'impresa Un genio Certamente Avrebbe costruito Un impero E Meno Ha dentro di sé Tra l'altro Chiaro Che il suo pentimento È un pentimento Per ottenere tregua Anche Perché Stieri lo dice Cioè Nessuno dice Io sono mentito Quello che ho fatto Lui Lui per esempio Perché io glielo chiedo Lui ha ucciso Una ragazza innocente Non c'entrava niente Quelle organizzazioni Proprio quando lui Mi sta per dire Ma io non ho toccato No Attenzione È morta una ragazza Perché stavano facendo Una rapina A un treno Porta valori Nell'esplosione Passa un treno accanto E ammassa una ragazza E quando io gli chiedo Chiede scusa Lui Ovviamente la chiede Però dice So benissimo Serve a niente Cioè Quello che ho fatto Imperdonabile Non c'è nessuna scusa Possibile Detto ciò Cosa serve a noi Ascoltarlo Capacità di riciclaggio Sapete che Il riciclaggio È fondamentale Per le organizzazioni criminali Lui Inizia a riciclare Tramite i casino E funziona così Tu entri Con cento milioni Di lire Ok Compri Fish Sporche Tutte sporche Sì Compri fish No E Giochi cento euro E ti danno Duecento milioni Di lire Dici Come è possibile Perché gli altri soldi Gli dai sempre tu Ma fanno risultare Che sia vittoria Che hai vinto al banco Quindi gli dai Duecentocinquanta mila euro E loro ti danno Duecentomila Quindi Assieme al casino Certo È un accordo È così Quello fa risultare Che sono soldi puliti Perché hai fatto vincite In realtà Sono soldi che tu stesso Hai dato a loro E loro si prendono la percentuale Quando vinsero Un superenalotto In Calabria Non mi ricordo Se era Calabria Il fatto è che L'andrangheta cerca Che ha vinto Vincitore Per dargli più soldi Per dargli il 10% in più Eh sì Perché così riciclano i soldi Perché in una botta Sono 50 milioni Io ti do 55 milioni Sei d'accordo con Gratteri Che la banconota da 500 euro Dovrebbe essere ritirata Sì La banconota da 500 euro Serve solo per il narcotraffico È incredibile Solo Perché occupa meno volume Perché un milione di euro In pezzi da 500 Pesa meno Che un milione di dollari Che sono in pezzi da 100 E se vai in Sud America Ti fanno lo sconto Se paghi in euro Con la cocaina Anzi le banconote da 500 Te le comprano di più Le comprano Vale sempre di più Una moneta da 500 Può essere pagata 5,10 5,6 Che di prezzi vale Come stamparle Sono ancora Sono tante in Spagna Diceva Gratteri La maggior parte In questo momento Sono monitorate Nelle zone Della negoziazione Del narcotraffico Le grandi porte Con cui entra la roba In Italia In Europa Sono la Spagna L'Olanda Rotterdam Hamburgo In Italia C'hai Vado Ligure C'hai Savona Meno Gioia Tauro Nel tempo Meno Gioia Tauro C'è troppo sotto l'occhio Del ciclone Gioia Tauro Ma poi come le spendi Perché già io 50 euro dal bar Mi insultano Se pago un caffè Con 50 euro Ma in realtà Poi ci sono Ci sono dei modi Che vanno Diciamo Nella direzione Del deposito bancario Cioè tu poi hai 7 milioni liquidi Che li dai a Cipro O nel Casinò Giusto Nel Casinò Cifre relativamente minori Perché tu Nel Casinò Diciamo sì Una milionata Ma anche per esempio Il gioco d'azzardo Legale Puoi giocare Sino a certi numeri E quello che noi Non ci rendiamo conto È che questa massa Di danaro Circola Su piattaforme Assolutamente legali Cioè io posso prendere 5 milioni In questo istante E portarli a Londra Londra Che è la più grande città Del riciclaggio del mondo Non è né Malta Né Panama È Londra Portarli a Londra E Londra Se li prende Senza che io Riceva Una sola domanda Su da dove arrivano Questi soldi Che ci sta ascoltando Dice no ma non è vero Io a Londra Per ton conto Mi hanno chiesto Questi soldi Da dove arrivano Vero Perché non ti sei rivolto Al broker giusto Che cosa fa? Fa arrivare a Londra I soldi Ma da Jersey Da Gibraltar Da Malta Cioè dai luoghi Offshore Dove il danaro Può arrivare Senza che sia battezzato Pensate è incredibile Stai prendendo appunti Scherzi Sempre quella Altra cosa per esempio Che io cerco di raccontare Perché il narcotraffico Genera così violenza Perché è lo strumento Attraverso cui tu guadagni di più Per Se tu investi Mille euro Lo dico sempre Se tu investi Mille euro In azioni Di una compagnia Tecnologica forte Dopo un anno Ai 1200 Se ti va bene Se tu investi Questo è il dato Che dà la DNA Se tu Che ha preso Studi Dell'antimafia La DNA americana Se tu investi Mille dollari In cocaina Hai 182 mila euro Sapete cosa significa Che con 5000 euro In coca Tu hai un milione di euro Cioè svolti Eh sì Questo Immaginate nel mondo Cosa genera In un ragazzo Sudafricano Argentino In questo momento Che cosa ha in testa Quando fa una rapina Questo è importante Parla di noi Sì Esatto Proprio voi Quando voi fate una rapina Cosa avete in testa Veramente di fregare Il televisore Il motorino Accumulare Soldi Che poi rimetti Nella coca Poi cosa succede Che quando ci provi Due sono le strade Ti arrestano subito Magari vai da un confidente Ti ammazzano i rivali Perché il terrore Delle organizzazioni È ammazzare subito Chi spaccia Chi sta cercando Di mettersi sul mercato Perché se non me ne accorgo In un mese Lui ha un esercito E vengo fottuto Mentre se tu invece Fai estorsioni Io posso venire a dirti Evita La prossima volta Ti spezzo le gambe Se tu hai autofficine Oppure fai gioco C'è tempo Io posso evitare l'omicidio C'è tempo Ma se invece tu fai coca O fai pasticche Tu in un mese Ti prendi sotto di te Otto ragazzi E poi per attaccarmi Mi prendi alle spalle Per questo è l'ossessione Come tocchi ti devo fare fuori E nel modo più feroce In questo momento Il centro del mondo È il Messico Ed è il Messico Perché distribuisce Esattamente come Le grandi piattaforme Cioè Qual è la forza di Amazon? Distribuire Qual è la forza dei messicani? Distribuiscono Non producono Producono i colombiani I boliviani Ma oggi vince chi distribuisce Non più chi produce Dropshipping Come il mercato Fanno dropshipping Incredibile In Messico È veramente spaventosa La violenza In Messico Sono molto creativi Quando ti uccidono Ti fanno la cravatta Con la lingua Ti mettono il penne in bocca Ti fanno delle cose Tagliano le arti Sono super creativi però Video terribili Ci sono dei siti Che abbiamo fatto vedere Jake Lafuria Dove postano tutte le robe Gli amicidi E sono Il cartello Si chiama cartello Perché lasciano il cartello Sulla vittima Che ho scritto le informazioni Quelli sono i narcocartelli Sì Credo che non sia il motivo Però è interessante Nel senso che Chissà che adesso Non siano Perché sai Il termine originario Lo danno i colombiani Perché le famiglie Devono unirsi Come il cartello Dei petroli Cartello si intende Gruppi che si uniscono Per impedire al prezzo Di scendere o salire Quindi tecnicamente In economia Quando dici Fai cartello Stai costruendo Una sorta di monopolio Però di alleanze Le sette sorelle Le cinque famiglie In quale si stabilizza Il mercato controllato E quindi Nasce così Dopodiché I narcocartelli Sono i cartelli Che mettono sui corpi Per dare messaggi Questa persona Ha fatto questo Ma c'erano delle situazioni assurde Ma Felina Io la racconto in 000 A un certo punto È una giornalista E fa tweet Con un altro nickname Loro la beccano La decapitano E mettono sul computer La sua testa Madonna Cioè Una dittatura reale Quella messicana Dovuta a questa feroce Al fatto che La quantità di denaro Che schicchissimo Che movimenta È talmente grande Che loro devono Terrorizzare chiunque Osi avvicinarsi O contrastarli Cioè Sinaloa Io mi sono seguito Tutto il processo Di Chapa a New York Perché era Brooklyn E quindi ero lì Ah madonna Guardate che è stato incredibile Anzitutto Chapo non è così Chapo Io me lo immaginavo Molto molto piccolo Invece Diciamo Quasi un metro e settanta Non ti immagino C'è un metro Certo E quindi probabilmente Nella media messicana Poi Spiro un gore Forse un po' sotto Sarà Però Sessanta set Però voglio dire Io mi immaginavo Uno e quarantotto Uno e cinquanta Molto piccolino No Invece no È silenziosissimo C'è una scena Incredibile A un certo punto Viene fatto ascoltare Un audio Dove c'è questa signora Che stava chiamando A Ciavito E gli dice Ah ti adoro Ti amo Generalmente Quindi narco Fanno così Ma perché È pericoloso Questo audio Oltre a raccontare La joint venture Economica Tra i due Perché c'è la moglie Del ciapo Presente Ah Bene All'udienza successiva Entrambi si vestono Di rosso Non avete compromesso Il nostro amore Capite il messaggio Tutto messaggio Non solo Un'altra scena assurda Fanno entrare Un camion Un carrello Di armi In aula Vabbè Vecchissime Perché il processo Fatto a Ciavo Era sugli anni 90 Questo per farvi capire Come le organizzazioni Sono consapevoli di questo Cioè Quello che io faccio oggi Lo scoprirai tra 20 anni Certo Allora Entrano E c'era Lei E c'erano le figlie E la moglie del ciapo Mette le mani Sugli occhi delle bambine Non vedete queste armi Queste cose brutte E c'è l'altra cosa Incredibile Che le storie Che venivano raccontate Durante questo processo Erano Oltre l'immaginabile Tant'è vero Che mi ha stupito Perché gli scienziatori Non erano lì a studiare Certo Non puoi Cioè devi stare proprio là Guardare quello che succede E c'era la storia Di questo qua Si chiama Flachito Che era incredibile Per cui Gli chiedono A un pentito Forse era uno dei gemelli Comunque a un certo punto Chiedono a questa figura Ma Ciavo Aveva giurato Al padre del Flachito Che avrebbe difeso il figlio E perché ha ucciso Il figlio Di questa persona A cui aveva giurato protezione E no Lo ha protetto Ma in che senso L'ha ucciso Si ma L'ha protetto Ma in che senso Allora racconto la storia Dice Questa persona Gli abbiamo affidato Gli dà il milione In realtà Erano molto di più Di questo Del milione Prepara l'aereo Flachito è lì presente Vede tutto Il giorno in cui Deve partire Quest'aereo Resta fermo Nell'hangar Il pilota Insieme alla sua famiglia È scappato Che scelta del cazzo Chissà cosa Poseva mai succedere A dargli un milione In anticipo L'idea era Io lo controllo Lo conosco Mi ha chiesto I soldi Figurati che fa A quel punto L'organizzazione Non può far altro Che ammazzarlo Per tutelare L'immagine del padre Così loro l'hanno Justificato Noi siamo stati d'onore Te l'abbiamo protetto Perché se te lo ammazzavamo In Messico Dicendo Che aveva Dovevamo uccidere anche te A quel punto era finita Tutta l'autorevolezza È finita È tutto così Cioè L'organizzazione I messicani In questo senso Sono anche interessanti Perché non hanno La popolazione messicana Sul territorio americano È assolutamente rigorosa Non fa crimine Pochissimi messicani Sono tutti Grandissimi lavoratori Dei ristoranti Nei cantieri Assolutamente Tant'è vero Che loro si rivolgono Ad altri Per esempio i dominicani Gli spacciatori Che lavorano per i cartelli Sono moltissimi dominicani Messicani Sono moltissimi dominicani Direttamente Diciamo La popolazione americana Ma sono attentissimi A non coinvolgere I migranti A spessissimo Gente che fa crimine In Messico Arriva in America Con un lavoro Smette Perché sai Che fai una finaccia infame Quando io allora Il terrore Anche quando ci stanno dentro E quando Ora c'è stata un'operazione All'arrestato uno dei figli Del Chapo Ok Qualche settimana fa Uno dei figli Meno forti Un classico regalo A Biden Che stava anche là Vedete il simbolo Torna Torna sempre Ok Più che regalo Ce l'hanno trovato Perché probabilmente Hanno pressato Perché nel momento In cui Biden arriva C'è bisogno Di qualcosa di Gli americani Si tengono Ciapo Perché Ciapo Se decide di parlare Cade il Messico Bene E c'erano I narco Bambini C'erano Io ho postato Sul mio Instagram Questi bambini Con il fucile Avranno avuto 8-12 anni Madonna Questo per dire Terrorissimo Come il del terrorismo Come il terrorismo Islamico E anche come le milizie africane Si era leone negli anni 90 Sono soldati spietatissimi Sempre i bambini Anche nel regime comunista Tipo al Potti I bambini erano i più feroci Di tutti I bambini sono stronzi Ma perché non hanno Il controllo E sono manipolati Iniziano e non finiscono più Sono manipolati E poi succede questa cosa Che se quel ragazzino Tu lo togli E lo fai andare Ad Atlanta a lavorare Quello non fa più il criminale Questa è l'incredibile Situazione diversa Rispetto ad altre realtà Più occidentali Del Sud America Cioè a un certo punto Loro sono proprio consapevoli Che stanno facendo qualcosa Di infame Ma non c'è alternativa In molti casi L'alternativa è quasi inesistente Cioè il guadagno è nullo Rispetto alla possibilità Di fare controllo E la domanda Secondo me qualcuno Si sta facendo Ma quanta coca Il mondo deve pippare Per portare Una valanga di soldi Il narcotraffico Non solo di cocaina Io poi sono A differenza di diversi Magistrati Ma devo dire Molti anche sono come Sono per la legalizzazione Assoluta come strumento Di lotta alle maglie Bravo Di tutto Tutto In realtà Mi rendo conto Che oggi fai fatica A dire Legalizzo la coca Quindi In questo mondo È impensabile Ma In un mondo Che immagino Con maggiore controllo E consapevolezza Anche le droghe Le pesanti Per sconfiggere le mafie Andrebbero legalizzate La guerra alla droga Ha portato Potere alle mafie La guerra alla droga È potere alle mafie Il proibizionismo Ha fallito Totalmente Il proibizionismo È l'alleato maggiore Delle organizzazioni criminali E non è vero E non è vero Quando dicono Ma no Poi lasci ci sarebbe Ci sarebbe Lasci di contrabbando Che comprano i ragazzini Sul lasci di contrabbando Che chiaramente Deve essere di minore qualità C'è una possibilità Di intervento Assai maggiore Se hai Lasci legale E l'abbiamo visto Con le sigarette Il mercato del contrabbando Di sigarette È praticamente morto Certo Perché tu hai Un maggiore controllo Anche se fai Una propaganda Importante sul danno Del fumo Per esempio Ma detto questo Il mercato Del narcotraffio È l'unico comparabile Al petrolio Le droghe Sono La benzina Dei corpi Nei corpi Del capolino Dire che c'è una domanda Immensa Porca puttana L'unico comparabile Ed è il motivo Per cui Le organizzazioni Sono così forti Sono così forti Perché possono contare Sulla droga Che spesso Le organizzazioni Non toccano neanche Cioè Forse De messia denaro Probabilmente sì Ma sono certo Che Binnu O Riina O Bardellino L'hanno proprio toccata La droga Ma la vietano Gli fa schifo Non esiste proprio L'obiettivo è Prendere quei soldi E investirli Tant'è vero Che questo Rende le loro aziende Fortissime Le loro aziende Che pagano le tasse Che sono rigorosissime Possono permettersi Di vincere un appalto Perché Possono mettere Un prezzo più basso In quanto Recuperano i soldi Con l'arcotraffio Se io distribuisco Genere alimentari Per esempio Tantissime pompe bianche Sapete le pompe bianche Quali sono le pompe di benzina bianche Sono le pompe di benzina Non dei brand Est o Agip I brand indipendenti Tipo Esatto Sono spessissimo E io Ce ne ho un paio Che diciamo da tempo Sto facendo inchieste su di loro Ma non riesco ad avere elementi Per cui poter uscire Ma Diciamo Ho proprio tutti gli elementi Sono dei clan I clan Che la trovano Trova la benzina In nero La comprono La comprono O dall'est Europa Facendola entrare E io in Gomorra L'ho messo La serie La fanno entrare camion Che portano latte Portano latte dalla Romania Dalla Polonia In realtà stanno Stanno introducendo petrolio Che pagano Ma senza le accise Dello Stato E quindi te lo possono dare A minor prezzo Un'altra cosa che fanno E non so se l'avete mai sentita Benzina agricola I trattori Hanno la benzina agricola Che costa molto molto meno Ed è uguale È uguale E ha un colore Ha un colore Diciamo Chiaramente diverso Tipo lo rendono azzurro Lo rendono così E diciamo Per una buona macchina Non fa benissimo Il carburante Diciamo È una benzina per trattori Però la macchina va Loro cosa fanno? Tagliano la benzina Con la benzina agricola E non fa tanto danno Cioè soprattutto Se è una macchina utilitaria Sì il carburatore Dopo un po' si inguaia Ma dopo sei mesi Una vita Certo Cavalcano il prodotto Del momento Se adesso la coca Dovessero scomparire Tutti i cocainomani Cambierebbero prodotto All'istante Iniziano a produrre batterie In futuro Iniziano a produrre Paleoliche Loro hanno investito In paleoliche Hanno investito in coltan Coltan Il coltan è Quello per fare Le batterie Dei telefoni Dei telefoni Dei computer Loro sono arrivati subito Hanno iniziato A investire Per esempio In preziosi Perché esattamente Per la stessa ragione Della moneta Da 500 euro Se tu hai un diamante Che vale 3 milioni Te lo puoi portare in tasca Un bene da 3 milioni Una casa Le auto E' sempre un problema E poi sequestrabile Il mattone E poi sequestrabile Che il grande problema E' questo Che tu poi Hai un bene Che viene sequestrato E l'altro Grande difficoltà Dello stato qual è? Se io sequestro Una fabbrica Oppure pensate I supermercati Messi in denaro Avevano un sacco di supermercati Sequestrati Prima della confisca C'è il commissariamento Bene In quella fase Raramente funziona bene Un bene Cioè? Fammi capire? E cioè Il commissario Non ha la stessa gestione Ah beh certo Lo fanno fallire E quindi cosa succede? Tutti dicono Cazzo però Quando c'era lui Funzionava Che è vero Che è oggettivamente vero Cioè vi ricordo I casalesi comprano Il più grande zuccherificio Del Mediterraneo Che era Castelvolturno La storia Un imprenditore Quando diventa commissariale La gestione Fallisce lo zuccherificio Che invece prima La floridissima Immagino che ci sia Una continua competizione Da parte della mafia Rispetto ai servizi pubblici O privati Il mostrarsi migliore Nel welfare Come dicevi prima La capacità di essere Poi per esempio In molti casi So che ci sono esempi Dove loro si sono comportati male Cioè Fanno male La costruzione di un palazzo Mettono più sabbia Il cemento Io in realtà Devo dire Nella mia esperienza Li ho sempre visti invece Super efficienti Cioè Ho sempre visto Le ditte di criminali O andare sulla truffa Cioè Da quell'operazione Devo solo guadagnare Quindi ci lavoro male Poco Oppure essere super efficienti Io sono cresciuto appunto Nella Graversano E la zona Non dimenticherò mai Un business Che ho visto con i miei occhi Sono nel 79 Quindi questa avveniva Fine gli anni 80-90 E inizio anni 90 Discariche Abusive Cioè Compro un terreno E ci sversano dentro Di tutto Soldi Questo significa soldi Perché la discarica abusiva Significa Che tu Non paghi allo Stato Non paghi Diciamo riparazioni Nulla Non controlli Buche Dove ci butti dentro Cosa Rifiuti industriali Che sono quelli più costosi Perché in un'azienda La voce del rifiuto industriale È una voce pesante E che Non ti porta vantaggio Perché la pubblicità È vantaggio Persino le tasse Ti permettono di essere Un'azienda Di immagine solida Però Invece i rifiuti Allora danno queste ditte Che ti danno regolarmente Una bolla Si chiama giro di bolla Ti dicono Ecco qua Smaltito legalmente Non lo hanno smaltito legalmente Sono andati dal centro Di smaltimento illegale L'hanno pagato Questi gli hanno dato il giro di bolla Cioè la bolla La bolla Invece lo buttano in questa discarica Certo E quindi ci guadagnano questo Secondo passaggio Quel terreno Una volta che la discarica Si è riempita L'hanno venduto allo Stato Per farci una strada Un assemediano Terzo passaggio A chi è andato l'appalto Per costruire la strada? Loro stessi Win 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 situation Ci guadagnano tre volte Tre volte da cosa Da una buca riempita di monnezzo Da un terreno Che non vale niente Incredibile Perché fanno poi pressione Sulla politica Perché passi lì Degli alchimisti La montagna di merda In oro E loro È proprio questo Loro riescono a trasformare La merda in oro Anche per questo E poi La burocrazia È il grande problema Cioè Provate ad aprire un cantiere E Chi fa questo Lo sa benissimo La quantità di Documenti Rotture di palle Se invece arrivano loro Con i loro uomini Facilissimo Ci pensiamo a noi E loro chiedono Dateci i noli I noli a freddo I noli a cate I macchinari Il movimento terre Dateci quello E tutto è ok Facciamo tutto noi Perché noi sappiamo Al comune da chi andare Ma non è che gli mettono la pistola in faccia No no È un servizio Servizio È un servizio ottimo Ed è per questo Che anche che nessuno riuscirà mai Perché non c'è tanto interesse A raccontare come il racket Nella fase iniziale È sempre un vantaggio E poi ti diventa una strozzatura Cioè Tu vuoi pagare l'organizzazione Perché cosa ti dà Io proprio l'ho visto Con gli studi che facevo Poi c'è per esempio Sesso imprese Fanno delle lotte meravigliose Sono associazioni Tra l'altro Se mai li incontrate Questi qua che fanno lotta all'usura Hanno delle storie Dopo il covid Pazzesche Perché le mafie Si sono comprate tutto Tutte le aziende Le banche Quando chiudono un fido Chi va da chi va L'imprenditore Va da loro Certo E le mafie Odiano gli usurai Infatti in comuna Facciamo uccidere un usuraio Le mafie vogliono essere Il tuo partner imprenditoriale Vogliono proprio diventare E poi se la mangia Così sei vincolato Poi diventi prestanome Esatto Allora cosa succede Il racket è così Allora si presenta una persona Tu hai Immaginate un ristorante La cosa in cui loro investono moltissimo Arriva E dice Senti Ci devi dare Un milione di lire Un milione di mille euro A settimana Per esempio Ah Dopodiché Come tu Se tu hai Una ristrutturazione da fare Sconto il 30% Con le nostre ditte Oppure Se stanno venendo Quelli a controllarti Che non funziona Ti avverto O clientela Sulla clientela Dipende Perché loro dicono Per esempio Ti serve lanciare Nessun problema I camion che ti vengono A portare il pesce Fanno benzina da noi Quindi gli abbattiamo Tutti i costi La nostra benzina Quella speciale Quindi è un ottimo servizio Cos'è? Quando è che diventa terribile? Quando loro tutto questo Non te lo garantiscono più O per picrizia Non vogliono stare più dietro a te Quindi basta O perché stanno entrando in agonia Quindi vogliono sempre più soldi E guarda caso In quei casi È più facile che arrivi la denuncia Certo Ci sono poi anche Le organizzazioni Che a strozzo e basta Cioè pistola dammi soldi Ma sono quelle miserabili Quelle proprio che ti chiedono Sono ad alto livello Ad alto livello La distorsione È una partecipazione Alla loro economia Che ti porta anche Quando tu entri in crisi C'è stata un'intercettazione Incredibile Che racconta Una procuratrice Antimafia di Milano Covid Andrine di Vibo Valencia Si chiamano Si comunicano tra di loro E si dicono Basta investire in ristoranti Perché Cioè li stavano comprando Troppi Troppi Questa cosa mi ha colpito molto E non so neanche se poi Si è uscita questa inchiesta L'aspetto da tanto tempo Cioè La possibilità di vedere Col Covid E io ho intervistato Per il Corriere della Sera Questo imprenditore di Bergamo Storico imprenditore Di edilizia Diciamo Di costruzione di billette Sostanzialmente E Un imprenditore Sano Appunto La classica storia Dell'imprenditore bergamasco Gli chiudono Un fido bancario Perché non rientra Ma per un mese e mezzo Niente Niente A quel punto Gli dicono Commercialisti Perché i commercialisti sleali Sono pericolosissimi Sono il vero gancio Che hanno con le organizzazioni L'associazione commercialisti Mi ha correlato Per questo Ma ho vinto la causa Che posso dirlo Incredibile Ma vi giuro Che è successo così Io ho detto I commercialisti sleali Sono L'associazione commercialisti Mi ha correlato Però è pieno di storie Però se la specifica Gli sleali Non tutti Fra i commercialisti Che devi fare Io sono un commercialista Non sleale Il fatto è che Questo arriva E gli dice A un certo punto Sono lì E lui gli dice Io voglio investire Nell'edilizia Io faccio Agisco nell'impresa Nel ramo alimentare In bottiglio Pomodori Insomma O una roba del genere Si presenta come un'azienda Che vuole appunto Fare un salto Nell'edilizia E gli dà subito cash Piano 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 Entra Entra Lo fa spendere Lo fa spendere Entra Quando Sempre così Finita quella che si chiama Tecnicamente Luna di miele Si chiama così La honeymoon phase Finisce la luna di miele E inizia a dire Senti Io ho bisogno Dei soldi Che ti ho dato Perché le banche Mi chiedono un rientro C'è un casino Tu non li hai E allora ti diceva Va bene Pagami le azioni Dammi le altre parti Che c'hai Cazzo E lui ha iniziato a dare tutto Ha iniziato a dare tutto E Gli chiedo nell'intervista Gli dico Ma Qual è l'obiettivo Dell'organizzazione E lui dice L'obiettivo dell'organizzazione Era Farmi partecipare Degli appalti Dove loro non avrebbero mai potuto vincere Serviva una persona Dallo storico importante Fidato Qui c'è vent'anni di attività pulita Quindi lui si presentava così Ma dietro c'erano loro Che gliel'avano mangiata Capite che cosa significa Ecco perché Si pulisci anche l'identità Pulisci tutto Si comprano il pulito Pure Per questo Le politiche Il dibattito Dovrebbe essere solo su questo Se ci pensate Quanta roba Quanto non si parla Nulla Cioè al massimo dell'arresto O dell'omicidio Ma tutto il resto Anche perché bisogna Ne devi sapere No? E non puoi delegare Solo ai tecnici Cioè ai magistrati Che non è che li puoi esporre Ad avere Il parere su tutto Ma Questo rientra Nella questione dell'odio Cioè chi ci sta Una parte Di persone Magari sentono queste storie La prima cosa è Ma vaffanculo Perché deve Altrimenti Se sei d'accordo Con quello che dico Capisci che da domani Ti cambia anche Lo sguardo sulle cose Certo Cioè lo Stato Deve presentarsi Molto più Affidabile E sicuro Per un imprenditore Della criminalità Cioè se io Da imprenditore Ho come obiettivo primario Far del profitto E non fallire Se lo Stato Mi sta facendo fallire O le banche Mi stanno facendo fallire Ma infatti Posso farti una domanda Ma perché Non si è mai pensato Dico una cagata La Yakuza in Giappone Ah Guarda Una domanda Mi hanno fatto Anche per spesso in America Cioè perché La Yakuza in Giappone È legalizzata In qualche modo Se toccano per esempio Prostituzione Gioco Le polizie Le polizie non entrano Quando invece saltano Per esempio Prendono i soldi della droga E ci fanno un partito Ci così Entrano Cioè c'è un dibattito Hanno cercato di Tenerli in delle zone Di sicurezza Di statalizzarli Hanno delle valvole di sfogo Su certi È che è impossibile Cioè nel senso che Le organizzazioni Per esempio Penso a quelle italiane La Yakuza pure è molto antica Però Hanno strutture Impossibili Da poter Diciamo Circoscrivere Anche perché per esempio Le mafie Gli fa schifo fare la prostituzione Assolutamente Non fanno usura Non Non spacciono direttamente Zero Sì Non puoi circoscriverli È difficile Anzi Poi sono immediatamente Veloci nel cambiare passo Per esempio Quando io Molto ragazzino La camorra era Profondamente razzista A un certo punto Capisce Che bisogna allearsi E Fanno diventare Castelvolturo Un posto magnifico Terribile Perché c'era Il villaggio Coppola Non so se l'avete mai sentito 800.000 metri quadri Abusivi Tutto era abusivo La caserma dei carabinieri L'ospedale Le poste E poi è diventato Una città fantasma E poi è diventato Un posto Ma incredibile Garrone non riesce A non girare A Castelvolturo Io ho proprio bisogno Di andarci È tutto completamente distrutto Su un mare magnifico Sì sì Pazzesco Cioè Un lungomare Bene Lì Ci hanno messo poi L'alleanza Con i gruppi nigeriani Quindi la camorra All'istante Smette di essere Diciamo razzista Per i propri interessi Perché poi Continua ad esserlo Culturalmente Continua ad esserlo Politicamente Ma Si fanno alleanze No E sta roba È incredibile Loro immediatamente Cambiano posizione Cambiano Capiscono come Dove poter fare Fare affari Ma in un attimo E c'è un'espressione Che Usano Spessissimo I criminologi Mittele europei Dicono Il massimo Livello Di evoluzione Economica Il minimo Livello Di evoluzione Culturale Per definire Cioè Investono In coltan Ma Se tu Hai corteggiato La moglie Di un capo Vieni Ucciso Strozzato Su una spiaggia Che è una roba Incredibile Oppure L'omosessualità Le famiglie napoletane L'accettano Anche dentro Le organizzazioni E le famiglie Casertane Calabresi E assolutamente Se è condannata a morte L'omosessualità È la cosa più grave Che possa esistere Incredibile Ma perché aiuta Gli affari Questo C'è una correlazione Questa fa parte Di tutta la mitologia L'essere conservatori E mantenere questi riti E queste cose qui Aiuta il profitto Sì In che modo Aiuta il profitto È individuato il punto Cioè Loro cercano Di tenere Tutte le regole Sempre identiche Perché sono controllabili Cioè Io tengo Per esempio Anche le logiche Matrimoniali Non dimenticherò mai Quando La figlia Di Pasquale Condello Sposa Un uomo voluto Dal padre E la moglie Di Pasquale Condello Sopronominato Supremo Il Supremo Scrive agli affiliati Perché suo marito Non l'ascolta Dicendo Convincete il Supremo Che state rovinando La vita La felicità Della figlia Perché sta sposando Chi non deve Certo E Il mondo Diciamo Della andrangheta Della camorra Di cosa nostra Della mafia foggiana Che potentissima In questo momento Nessuno ne parla mai La mafia foggiana? Sì Cos'è la sacra corona unita? No perché la sacra corona La sacra corona è il sud Della punta Quella è il gargano Foggia E sono potentissimi Perché poi si dividono I portavalori Oggi Se li fanno tutti I cerignolini Cioè si fa tutta la zona Le organizzazioni foggiane Fanno ancora gli assalti I portavalori? Porca miseria Eh sì perché sono veloci E ti porta a casa Un sacco di roda La cosa più antica Rimasta dopo i sequestri Perché i sequestri Non li fanno più È una cosa pericolosissima Il portavalori C'è la guardia armata Sì ma La guardia armata Non so se Non è una efficienza Per rischiare la vita Ed indenizzo il rischio Poi bloccano Con gli finti incidenti Però per dirti Questa roba conta tanto La verginità Un po' meno Ma per esempio Il non divorzio Evitare il divorzio A tutti i costi L'omosessualità È vista come una cosa Una malattia terribile Da punire A volte con la morte Persino E' strana questa correlazione Non so Perché ne parlavamo pure Con Nuzzi Per il Vaticano Perché pure il Vaticano Sono le stesse cose Che hanno reso forti Alcune religioni Sì Ma è quello che diceva lui Cioè devono avere Delle leggi parallele Che a volte Sembrano Avere Antiche origini Però poi in realtà Hanno delle motivazioni valide Per esempio La moglie che non ti devi sposare Cioè loro devono avere Delle regole Che sono paralleli Alla legge Le vestono Come diciamo appunto Una necessità ideologica O addirittura religiosa No E Sono religiosissimi tutti Per esempio No Io ho cercato di capire Quanto sentissero Raffaele Cutolo Una vita in carcere La sentiva profondamente La religione Ma come è possibile E per esempio Ho cercato Anche qui Anche per scrivere No I miei libri Io dovevo Mostrare Salvatore Conte È molto religioso Sono in comora Per intenderci E io nei libri Cerco di capire Ma perché Bene C'è una ragione Che è questa Quando tu fai un omicidio Tieni su di te La colpa Di una grandissima Responsabilità Che è togliere la vita A una persona Che però tu fai Per difendere la tua famiglia E quindi Vai dalla Madonna Che presiede Sovrintende Per le mafie Gli omicidi Cioè la figura Della Madonna È quella che Capisce Che lo stai facendo In nome di una cosa Più grande Quindi tu ti prendi La croce Su di te Il dolore Sei un martire Sei un martire Per salvare la famiglia È vero Infatti sono tutti religiosissimi Mi ricordo Vincenzo Lubrano Bossi Pignataro Maggiore Che Fa ristaurare Questo Questo affresco Della Madonna Ed era devotissimo Ma tutti lo sono Binnu Aveva La Bibbia Tutta annotata Quindi da Leggeva Rileggeva 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 E poi anche i libri Pensino a denaro Non mi ha stupito Platone Platone era anche Nella scella di Cutolo Sandro Gaschiavone Aveva un intera Cutolo ha l'NCO Giusto? Sì Ha fondato l'NCO Poi è morto Forse l'anno scorso Se siete appassionati Vi consiglio Il confronto Tra Vallanzasca E Pandico Che è quello Che ha accusato Il giornalista Che è Enzo Tortola Giustamente Pandico È un collaboratore Di giustizia Di merda Totalmente inaffidabile Totalmente inaffidabile Che ha mandato in galera Enzo Tortora Totalmente innocente E praticamente Cioè Vallanzasca Che non si è mai pentito Fanno questo confronto E praticamente Pandico dice Che Cutolo Ha dato uno schiaffo A Vallanzasca E Vallanzasca Si incazza tantissimo Perché non vuole Cioè non vuole Ammettere Che ha preso uno schiaffo Da Cutolo È una roba Tra bambini Sembra E' bello Perché poi Vallanzasca Lì dice Probabilmente la verità Cioè C'è sta roba Tra terroni Io mi sto fuori Questa roba qua No? Poi si insulta Sì sì bellissimo Mi sono sempre tenuto lontano Dal giro di questi terroni Che in carcere Fanno queste cose E Un signore Barra Che invece O l'animale O l'animale Che è l'uomo Diciamo Diventato famoso Nel mondo criminale Perché toglie Dalla gabbia toracica Di Francis Turatello Il cuore E anche lì E anche lì è leggenda Cioè lui in verità Si è mangiato il cuore In realtà Nulla di tutto questo È stato accortellato Tante volte Che è uscito il cuore Dalla gabbia toracica Però per dire Questa storia Questa roba Pasquale Barra Quando lo vedi Nelle testimonianze Anche questo Se le trovate online Non ti sembra Una persona Diciamo Spostata Come per esempio Quando guardi Izzo Uno dei responsabili Della Tragedia del Ciceo Vedi una persona Comunque te è spostata E quindi ti immagini In una psicologia Questi no Cioè gli affiliati Sono un'altra roba Brusca Non so se l'avete mai sentito parlare Renato No Brusca Uverro Ah ok Giovanni Brusca Giovanni scusami Giovanni Brusca Quello che ha messo il bambino Esatto Giovanni Brusca È una persona Assolutamente tranquilla Quando parla È operativa È assennata Perché questo mostra La grande differenza Tra le organizzazioni criminali E il matto Estremista politico Barra a un certo punto Dice a un giudice Se Cuomo fosse rimasto In quel carcere Io certamente Issa fatto fuori Avrei ucciso Perché signor giudice Io sono un uomo So come si vive E so come si muore Quindi nessun problema L'avrebbero fatto fuori Sì però io dovevo uccidere Ma perché Perché ha sparato nelle gambe A mio figlio Che non era un affiliato Altra cosa che a loro Conta molto È questa Essere affiliati o no Quando per esempio Si relazionano a me A volte Mi insultano Spesso dalle gabbie Quando va dei processi Perché loro dicono Tu Non fai capire Le persone Che l'organizzazione Colpisce Chi appartiene All'organizzazione Cioè non è roba Tipo Pino Puglisi Don Peppe Diana Persone vengono uccise fuori Giornalisti Giudici No Noi colpiamo Chi ci vuole colpire E lui dice Tu infame Non lo dici Facendoci passare Per assassini No Noi ammazziamo Ci stiamo difendendo È deciso di fare parte Della nostra storia E poi Questo è un continuo Mamma mia Mi dimenticherò mai Quando vado a seguire Il processo Zagaria Sapete È Zagaria Che ha detto Ha vinto lo Stato Ah sì Michele Zagaria Esatto Capastorta Certo Lo Stato vince sempre Lo Stato vince sempre Michele Zagaria Ha detto Capastorta Di Casa Pesina Una casa Mi ricordo Che aveva un albero Al centro Si apriva a metà la casa Per tenere un albero Aveva il bunker Ah sì Aveva la casa bunker Che si apriva Michelino Zagaria Aveva la madonnina Con la telecamera Suo fratello Vincenzo Detto Billaden Perché non lo trovavano Pasquale Pasquale Io quando vado Al processo Non c'era ancora Non c'era C'erano i suoi uomini C'era Scintilla Lo sceriffo Insomma Me li ricordo In gabbia Incredibile Iniziano a fare Questo gesto Così Fanno Saga Io non capisco Poi capisco Fatti le sopracciglia Fatti le sopracciglia Ma cazzo Tu lo diresti Che fighetti E stedi pure Perché loro erano Tutti elegantissimi E passano il tempo A farsele Quindi lo spazio Tra le due Sobre il cinema E fattele Incredibile Due domande Una che non c'entra Con la mafia Ma Io vorrei capire Anche lo stato di salute Dei servizi segreti Cioè Noi Da anni Abbiamo storia Di servizi segreti Deviati E io una cosa Di cui non riesco A capacitarmi In questo momento È che Carminati Sia libero Cioè Carminati Un uomo È libero per Roma È libero per Roma Un uomo Che gli hanno sparato in faccia Ha perso un occhio Che è stato processato Per l'omicidio di Pecorelli Insomma Ne ha fatte di cotte Di crude È fuori Grazie Probabilmente Ad un Ad una rapina Ad un portavalori Sotto Il palazzo di giustizia Quella è un'ipotesi Nel senso che lui A oggi È fuori perché Assolto dei processi Più importanti Ma incredibilmente Assolto E Anzi vi consiglio Di ascoltare I processi Carminati Che sono incredibili Anche lui Molto assennato E anche lui Lancia dei messaggi Perché quando lui Dice Quando abbiamo fatto La rapina Al portavalori Abbiamo trovato Un po' di soldi Lui li sta dicendo Guardate che io C'ho ancora Perché hanno rubato Dalle cassette di sicurezza Di magistrati Politici E non si sa Che cazzo Abbiano rubato Perché hanno aperto Delle cassette Sotto il palazzo di giustizia Era giusto Delle cassette specifiche Le hanno rubate Sotto il palazzo di giustizia Quindi magari Non solo soldi Non solo informazioni Ecco perché lui dice Ho rubato un po' di soldi Il segnale è Se tu fai una rapina Lo fai per soldi Non dice Ho rubato un po' di soldi Ho rubato soldi Perché Intende altro Sai Non so risponderti Nel senso che Mafia Capitale È stata un'inchiesta Importantissima Perché mostrava Per la prima volta Un'organizzazione Autoctona romana Carminati E questo posso dirtelo Legatissimo anche Al mondo dei giornalisti Ah sì Sì Che i giornalisti Cosa facevano Di alcuni Vai a vederti l'inchiesta Sicuro Questa la censuriamo I diversi giornalisti Cosa facevano Vanno a Andavano da lui I giornalisti Andavano In questura Polizia Prendevano le informazioni I giornalisti Dicevano Ma quindi lo state indagando Ma lo state prendendo E poi andavano dal suo avvocato A dirglielo Porca troia È nell'inchiesta Questo movimento Porca troia Ovviamente gli avvocati I giornalisti Dicevano No no Ma noi condividevamo Con gli avvocati Carminati Queste informazioni Per verificare Se anche Dal loro punto di vista Fosse così Questo per dire Chi è Carminati Detto ciò Massimo Carminati E su questo Io ho studiato Il rapporto con lui Non tocca la droga Capisce Capisce subito Che Senese Che è uno dei capi Delle organizzazioni romane Napoletano D'origine Chiaramente Lui capisce Che se tocca La coca Se tocca l'eroina Va Immediatamente A intervenire Nell'ambito Delle mafie classiche Quindi Se tu tocchi la coca Finisci dentro Un problema con la camorra Un problema con la dranga Un problema con la cosa nostra E a quel punto Diventi l'oro E a quel punto Ti becchi 30 anni Per associazione 20 anni Lui non lo tocca Ci sono delle intercettazioni Dove lui dice No ma non so niente No 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 Ma proprio nulla Rifiuto completamente Lui cosa fa Recupero crediti Che è interessantissimo Per i centri d'accoglienza Centri d'accoglienza Cooperative di ogni tipo E aziende Lui fa Aziende che non vengono pagate Dallo Stato Lui Va dallo Stato Gli uomini Che conosce Gli fa pressione E farle pagare E si prende una percentuale Dalle aziende Incredibile Quindi lo Stato Non paga delle imprese E ritardi 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 Oh Massimino Mi vuoi aiutare Massimino Va dall'amico 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 Mi sconvolge Quando mi dicono Per Roma Perché a me Mi scrivono Ultimamente Ma lo sanno Carminati Che stava In quel bar Carminati Che stava là Una persona Che ha frequentato I maggiori narcotrafficanti Italiani Che ha frequentato Gli spazi peggiori Ma I reati Che ho diciamo Elencato In fondo Ti picchi pochi anni Cioè Recupero crediti Qualche scazzotta Qualche Qualche ossa rotta Ma dovete Ascoltare Non so se qua Potete sentirlo Ma c'è un Su online Trovate la telefonata Di Massimo Carminati Alla Alla Ah No no È il nome cognome Dice Vatti a cercare chi sono Sono Massimo Carminati La capisci Che non è un capo La capisci Immaginatevi Immaginatevi Che ne so appunto Totorina Che chiama Che chiama Dice Basta Per cazzo Così Il Carminati Fa così Fa Allora Allora Tu chi sei Mi devi dire il nome tuo Tu devi mettere Chi sono io E poi ci vediamo Vatti a cercare Massimo Carminati Cioè E mi Riesce a far perdere L'estate Però sì Che diciamo Io non so Se lui riesca Addirittura A ricattare Poi Ecco Una risposta Che posso dare Diciamo Di buon senso È questa Non sono dei monoliti Servizi Cioè Tu hai una parte Magari molto controllata Che agisce E poi una parte Che inciampa È difficile Riconoscere Un'unica versione È come lo Stato Cioè quando mi si dice Lo Stato è corrotto Assolutamente no Quando mi si dice Ma lo Stato è contro la mafia Assolutamente no Una parte Dello Stato è corrotto Una parte Dello Stato è contro la mafia È un film Me lo sono perso Io devo tutto Quel film A quel libro Di Gio Marrazzo Il padre di Piero Devo tutto Nel senso che guardo Quei film da ragazzo E dico Io voglio arrivare A questa capacità Di conoscenza E di scrittura Sulla storia di Raffaele Cutolo È un film pazzesco Bene lì C'è Leo Gullotta Che fa il commissario E Cutolo gli dice Guardi che lo Stato È venuto da me E Gullotta gli risponde Quello non è lo Stato La risposta era Quella è solo una parte Di Stato Certo Una parte deviata Questo è importante Quindi La questione è Perché è così importante L'informazione Perché ti fa vedere Chi sta andando In una direzione E chi invece no Quindi i servizi Sicuramente c'è una parte Che negli anni L'ira di Dio Di sporcheria Hanno fatto Certo Però Ci sono stati anche Dei momenti In cui sono stati efficientissimi Quindi è uguale lo Stato Cioè ci sono Procure Non è la magistratura Tutta Ci sono dei E dei Cioè poliziotti uguali Ci sono dei E dei Chi ha una visione Più sulla repressione Chi invece sull'indagine economica Cioè È una mentalità Un po' no In tutto questo Il carcero stativo Il 41 bis Io non ad essere Temi per esempio Il 41 bis è necessario Io sono pro raga Però il carcere L'ergastolo stativo Dipende Cioè È l'automatismo Che a me inquieta L'ergastolo stativo Deve esserci ma valutato Caso per caso Perché questo? Perché io ho il terrore Che sia bloccata La grande vocazione Della nostra splendida Costituzione Che ci dice Che la pena Serve a recuperare La persona Ora ovviamente Se tu mi dici Sì ma non è recuperabile Rina Benissimo Ma deve essere il magistrato A poterlo decidere Non l'automatismo Non è che c'è il reato Quindi Caso per caso Caso per caso Io vorrei questo Che ci fosse la possibilità Caso per caso Di valutare Appunto L'ergastolo stativo È rischiosissimo Perché sennò L'automatismo è pericoloso Perché rischia poi Di andare a erodere Il principio Della nostra costituzione Cioè la pena Serve a recuperare A recuperarti Certo Ma anche perché Originariamente Ha seguito delle stragi Di rapaci Sì E so per tagliare i ponti Era il 41 bis Anche l'ergastolo stativo In realtà sono strumenti Perché in quel momento Bisognava Dare allo stato Allo stato Che combatteva la mafia La più forza possibile Per bloccarli E quindi tu dai L'isolamento Ma perché Nelle carceri Ragazzi Prima del 41 bis Loro comandavano Ma guardate Quando non vanno A 41 bis Anche questo Me l'hanno raccontato Io un giorno Vado a visitare Un carcere A Napoli Così E entro in una cella Dove stavano cucinando E allora Metto la testa E faccio La battuta Dico Ma è vero Allora Quello che si dice Perché mi guarda E che si dice Che qua fate La meglio spigola Di Napoli E fa Assaggiate voi stessi In realtà passano il tempo Spessissimo Con i fornelli da campo A cucinare Quindi Pentola e pentola Fanno forno E il pesce Difficilissimo Perché l'ho citato Perché Prestieri Ci racconta Nell'intervista Non so se poi l'ho messa Mi sembra di sì Lui non si è mai rifatto In letto In carcere Mai E lo rifacevano Anche in Spagna Quando tu sei Membro di un'organizzazione Non esiste Oti fanno manicure Infatti hanno le mani curatissime Si fa le sopracciglia Ma è incredibile Questa cosa da esteti È pazzesca È un ordine È importante Poi si vestono sempre Poi dipende Ci sono anche Un po' più trascurati Arrivano Io mi ricordo Sempre nei processi Questo odore di profumo Fortissimo Perché non hanno paura Di portarsi l'odore Del bagno chimico Dei cellulari Quindi si buttano Dei cellulari Continuamente Quindi io mi ricordo E sento Questo odore enorme Che senti fortissimo Pesantissimo Poi sempre molto eleganti E E Quando incontro Prestieri Per intervistarlo Lui mi dice Ma ti ricordi Mi dice Ma ti ricordi Io ti ho mandato A fare in culo Durante un processo Io ero proprio ragazzina Penso per dire la memoria No? Sì E non mi ricordavo E io dico Ma perché? Perché tu stavi chiedendo Lui Mentre in gabbia Stava parlando Con delle persone E io faccio A dei giornalisti Ma chi è? Perché sta Chi è questa persona Che lui sta parlando? Con cui lui sta parlando? E poi gli stai Favano Togliti Togliti perché voglio parlare Con Non so Mi ricordo Se era la moglie La madre Non mi ricordo più E lui si ricordava Lui si ricordava Questa cosa fatta dalle celle E quando io ero ragazzino E facevo fatica A raccontare alle persone Quanto il clan Mi stesse già addosso Perché sembrano Allora mi ricordo benissimo Le facce degli editori Che dicevano Ma com'è poi che sono Scrivo sul diario Di sedi ideali Ma com'è possibile? Cioè tu non sei niente Perché Leggono te E ti stanno addosso? Sapete perché? Perché le organizzazioni Cioè i vari nomi Hanno l'abbonamento Al Lego della stampa Per conoscere Quello che si scrive Su di loro Quindi non è che Leggevano il manifesto Ma non leggono neanche Poi gli editoriali Che possono fare Gli arrivavano in rassegna C'erano la rassegna stampa Perché gli avvocati Devono sapere Di cosa si scrive Sui loro clienti Quindi era l'avvocato Che aveva il nome Bidognetti Zagaria Biondino Il quale poi dava Alle famiglie Tutto il materiale Quindi non sapevano Sapevano solo Saviano e fasto fatta Quindi a un certo punto L'odio è verso di te Perché non gli frega Il correo Ma di no Sei tu E questo è il problema Ed è farlo capire Le persone Dice ma figure Se si pensano a te Invece no Perché loro Nella rassegna Vedevano Sentire che cosa Si dice di loro Così certo Che cosa si sta dicendo Le fesserie Che uno dice Ma non sapete Quante volte Mi hanno scritto Mica per dirmi Non è vero Che gli uvini Si occupano dei rifiuti Sono cinque anni Che ha smesso Così Però è una strana Contradizione Perché Parlare di mafia Toglie Le toglie anche potere Perché La slatentizza No La vedi Finalmente Però allo stesso tempo Gli ne dà Hai ragione Perché la mette Paura alle persone Quindi gli dai un capitale Ma sai quando Lo togli Quando permetti Non Non quando la denunci Ma quando dai alle persone La possibilità di capirla Io li freghi Ti dai gli strumenti Perché capisci Ah ecco perché si è aperto Quel centro La mafia La mafia verrà battuta Da un esercito Di professori Di maestre Ma infatti Nella puntata di oggi Ho imparato più cose Sulla mafia Che in tutta la mia vita Davvero Avevo dei dubbi Su proprio Su come riescono a operare A infiltrarsi Nell'imprenditoria E con il discorso Dell'imprenditore Dell'edilizia Che hai fatto prima Mi hai Mi hai aperto un mondo Su tutte le imprese Quando mi raccontano Quella pizzeria sicure Della mafia Dico Ma come è possibile Che poi a volte Anche là Ci sono molte leggende Nel senso che Una delle cose Che ho capito Negli ultimi anni Loro cercano sempre Di comprare negozi In luoghi Dove si rivaluta subito Perché loro Hanno necessità Di auto vendersi Vale la pena Raccontare Certo un minuto Immagina che tu hai Un'operazione Importante Sei riuscito A piazzare molta coca E quindi hai Un gruzzoletto 10-15 milioni Ok Li metti ad Andorra O li metti In Lussemburgo E con una società Che si chiama Paperino A un certo punto Cosa fai Compri in Italia Con i soldi puliti Un Metto un caso Diciamo simile A una cosa Realmente successa Di fronte al Pantheon Compri una pasticceria Una gelateria Un ristorante Ok E lo compri a 2 milioni Perché Proprio di fronte al Pantheon Tu dopo 3 anni Puoi venderla 5 milioni Diverso invece Se la compri a Casoria Certo Dove se la compri A 300 mila euro Devi vendela A 320 Altrimenti Sei subito Attenzionato Bene A chi la vendono La società Topolino Che ha comprato A Roma La pasticceria Di fronte al Pantheon A 2 milioni A chi la rivende A 5 A se stessi Esatto In Luxemburgo Sono entrati i soldi Si ricicla Da se stessi Spesso mi sono detto Rivendiamo i beni E una parte dell'antimafia Saggiamente dice No perché se li ricomprano Beh impediamo che lo ricomprino Però non li teniamo fermi Cioè troviamo un modo Per farli vivere Perché Libera In molti casi Ha fatto una rivoluzione culturale Che ha preso le case E ci ha messo centri importanti Ma a volte Uno zuccherificio Cosa ci fai? Lo devi rivendere E se loro lo ricomprano Gli lo risequestri Ma non lo tenere fermo Perché Loro vogliono questo Cioè vedete Quando arrivano questi Non funziona più Non funziona più Che non è quando arriva lo Stato Quando arriva una parte Quello Stato Che loro considerano nemici Loro si considerano Imprenditori Cioè quando i casalesi Si difendono Al processo Spartacus E io non dimenticherò mai Loro fanno questa lettera Per cui viene condannato Bidognetti Per minacce Nei confronti Un processo Trato da 12 anni Ragazzi E ancora non finito Ho visto tutto Ah si? Si quando Nella requisitoria L'avvocato Ti ha Minacciato Si Si Sono troppo esperto Raga comunque Io non pensavo Che fossi così A questo livello Si si Ma Vaticano e mafia Sono la mia Sono la mia Pilastra Perché è incredibile E così è successo L'avvocato legge E sostanzialmente Cosa sta dicendo Secondo l'interpretazione Della procura antimafia Sta dicendo Se I boss Vengono condannati Sono già morti Chi riteniamo responsabili? Saviano Capacchione Cantone Caffiero Dei mettono proprio i nomi E ogni nome è Capacchione ha tolto Tutto il vero In campagna Così Saviano ci ha portato Da là Mediaticamente Cantone ci ha fatto L'indagine là Caffiero Dei raga Ha fatto sparto Ognuno di noi Aveva un ruolo E il messaggio Che sta dando È Se voi ci togliete La vita Vi conviene Il messaggio Vi conviene Darci gli ergastoli Per cui noi possiamo Colpire chi vogliamo Non vi conviene Spostare il processo Da qui Che Saviano ha condizionato Con i suoi articoli Questo è il messaggio È incredibile 12 anni di processo 12 anni di processo A Bidognetti C'è un pluriasassino Vi consiglio Guardate Un giorno in pretura C'è tutto il processo Molto bello Sì Abbiamo parlato tantissimo Sì Volevo chiedere Il futuro Che futuro vedi Per i giovani italiani No Per queste organizzazioni Criminali Ma un po' Hai già dato Sì Siamo che si afflori No Chi è il prossimo Il super latitante Da conquistare Da chi appare Tipo Pokemon Go Sai che in questo momento Grandi nomi Non ne ho Nel senso che All'orizzonte Dell'elenco che c'è Sono tutti Diciamo Preci piccoli Nel senso Fragilissimi Condivido una posizione Un'idea di Abbate Che il prossimo capo Secondo me sarà Michele Greco Un ragazzo Il nipote di Michele Greco Lo storico capo di Cosa Nostra Spodestato da Reina E manipolato dai Corleonesi Secondo me sarà lui Michele Greco Il giovanissimo Il giovanissimo Michele Greco E invece per esempio C'è lì la storia Di Della titante Sardo Che viene ricercato Dell'anonima Perché ha Credo abbia partecipato Insieme A Matteo Boe Al sequestro di Farouk Che si chiama I Cubed Non sono sicuro Quella è una storia Su cui ho messo Tempo fa gli occhi Perché sono sicuro Ma è una sicurezza romantica Quindi non è una sicurezza scientifica Che lui sia riuscito a scappare Perché Sia in Australia Facendo il pastore Cioè che E' uno di quelli Che ha deciso Perché E' interessantissimo E' una delle altre Grandi mie passioni Di fare quello Che vuoi fare tu Tra un po' Di andare in Norvegia E fare il pastore No ma non sto scherzando L'anonima L'anonima sarda Quando sequestrava L'obiettivo era Non vivere sotto padrone Non era arricchirsi Cioè Mi faccio il grano Ma non è che voglio Voglio comprare una concessionaria Un bar Non voglio diventare miliardario E costruire un'organizzazione Che importa cocaina Questa era interessante Adesso La stagione dei sequesti Dimenticata Quella è un'altra puntata Ci sto studiando tanto Da tanti anni E ho la sensazione Che per esempio Lui rispetto agli altri mafiosi E' l'unico Che non è costretto A stare nel posto Dove tutti sanno che sia Perché Messia Denaro E' stato arrestato a casa sua Mancherina Questo Guardate Spiegarlo ai tedeschi Mi chiedono solo questo I francesi dicono Ma come? Trent'anni stava a casa sua Per me è normalissimo Perché per me E' proprio a casa tua Che tu ti salvi Perché conosci tutte le facce Tutte le strade Tutte le persone Che ti da In un secondo sei fuori Invece immaginatevi Lui a D'Amburgo Hai l'anonimato Ma se poi qualcuno Ti sta seguendo Se qualcuno Si è comprato casa di fronte Devi conoscere tutti Devi conoscere tutti E qualcuno Chi ti avverte Sei fregato Un nemico Cioè basta che arriva una voce Anche al centro di Manhattan Tu sei rovinato Invece se tu sei Lì Proprio lì Tu hai tutta la struttura Tutto il silenzio Zaccaria parlava via citofono Non aveva telefoni Le case Le collega col citofono Quindi tu avevi Eh A casa sua Suonavi Sì Il citofono Per cui non era intercettabile Geniale Ragazzi chiudiamo Sennò facciamo otto ore Ho trovato la foto Del ragazzo Di cui parlavi prima Eccolo questo È un giovane Michele Greco È una bella Ma che bella faccia È un giovane È proprio giovane ribelle Va bene Ringraziamo Roberto Sabiano Per essere stato con noi Bellissima puntata Grazie A una prossima puntata Di Muschio Selvaggio Grazie